Ovviamente dovrò di nuovo, di nuovo abituarmi a questo, a questo evento, a questa serie di live che ci accompagneranno ovviamente durante tutta la stagione. Il clou saranno i campionati mondiali che si tirano a Eugene e questa tappa di Savona è una tappa importante. Il meeting è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, trascinato dai grandissimi risultati dei nostri, soprattutto velocisti, prima col 9,99 di Filippo Torto e poi col 9,95 col quale Marcel Jacobs ha iniziato una stagione semplicemente eccezionale. Durante il meeting vi farò vedere anche le immagini delle gare, quando saranno presenti, sfruttando quella che è la copertura televisiva di Rai Sport, copertura televisiva che però per ora ancora non è presente, in quanto stanno a far vedere una interessantissima gara di biliardo. Si prevede però per le 4.30 l'inizio del collegamento, quindi quello che potremo fare per questo quarto d'ora che ci separa dalla possibilità di vedere le immagini e appunto commentare le gare che troveremo di qui in poi, il programma è serratissimo, e anche fare magari delle preanalisi e dei pronostici. Prima una delle cose che volevo fare, se mi ricordo come si fa, è vedere i commenti. Beh, intanto ragazzi, se volete, chi è presente, se qualcuno c'è, batta un colpo, ditemi cosa volete, vedere cosa vi aspettate da oggi, cosa pensate. Possa fare ad esempio Marcel Jacobs, impegnato tra poco più di una mezz'oretta nella batteria dei 100 metri, e poi, sperando che non succeda come lo scorso anno, oppure nella finale, che sarà verso le 5.30, e poi vediamo ragazzi, perché è veramente interessante tutto il panorama che si presenta. Durante la giornata di oggi ci sono molti atleti che mi interessano, che voglio vedere messe alla prova in un primo appuntamento importante. Sono tanti gli italiani iscritti, praticamente, credo che il livello sia più alto in alcune gare del campionato italiano, che assisteremo tra qualche mese, ma c'è anche una componente nutrita dal punto di vista degli atleti internazionali, che in alcuni casi daranno fede da torcere ai nostri, in altri rappresenteranno un giusto, diciamo, un giusto livello tecnico che potrà permettere ai nostri di esprimersi al meglio. Perfetto, vediamo un po' se riesco a fare qualcosa, invece di blaterale. Eccoci. Scusatemi. Perfetto. Francesco Lampitelli, sei anche di Savona, che bello averti con me nel seguire questa gara. Questa diretta, come ho scritto anche nel titolo, inaugura una, tra virgolette, nuova serie, anche se in realtà si inserisce all'interno di quelle che sono le dirette che ho ottenuto ormai da parecchi anni, insomma, nel commento di gare di atletica leggera. L'ho chiamata Controcronaca perché l'obiettivo è quello di rappresentare un'alternativa a quello che vedete sugli altri canali, principalmente sulla Rai, e siccome la Rai adesso ha deciso di trasmettere, alleluia dopo tanti anni, tutte le gare di Diamond League in chiaro, non succedeva praticamente dal 2011-2012, e ammetto che questa era uno dei motivi per i quali mi sono appassionato all'atletica leggera ai tempi, e quindi, beh, finalmente per noi è arrivata l'occasione di metterci la prova, anche nel commento tecnico di questa grandissima serie di manifestazioni. Ora, saluto Filippo Belletti che dice Jacob sotto i 9,90, molto probabile, dovrà rispondere a, per ora, diciamo l'attacco di Omaniala che rappresenta forse uno dei più importanti avversari per i campionati mondiali di quest'anno. Patta sotto i 10, aspettiamoci Patta, ma non solo lui, ci saranno, tra gli altri, nei 100 metri, sia Kitu Roali nella gara maschile, che Zanab Dosso nella gara femminile, quindi il nuovo che avanza, siamo messi veramente bene nella velocità italiana. Ciao Massimiliano Porcelli, e quindi andiamo subito a vedere quella gara che probabilmente sarà sui blocchi di partenza ai 100 metri di 63 donne. Un peccato che la Rai non abbia dato copertura a questo evento, nel quale sono presenti le tre atlete che hanno vinto una medaglia ai giochi olimpici di Tokyo, i giochi paralimpici di Tokyo, quindi Sabatini, che recentemente ha stabilito il record mondiale nei 200 metri, scendendo per la prima volta, lei atleta T63 sotto i 30 secondi, poi Caironi, che ultimamente, insomma, lei alterna la velocità, è stato in lungo e si è comportata molto bene in questa disciplina, e poi contrafatto che tra le tre è la più esperta, comunque ha consacrato la sua carriera con, appunto, una medaglia olimpica. Andando avanti, nel programma delle gare, alle 4.20, quindi tra pochissimo, un salto triplo donne. Allora, Francesco, intanto la gara la vedrò su Rai Sport HD. Quando sarà il momento e quando ci saranno delle cose da far vedere, non potrò farvi vedere tutto la diretta della Rai, perché altrimenti, ovviamente, rischio quello che arrivino, come sono arrivate comunque, delle richieste di buttare giù il video. Però, quando arriverà il momento, farà una cosa del genere, e quello che vedrete qua per il biliardo, lo vedrete per l'atletica leggera. È un po' questo l'obiettivo. Quindi per ora, per un altro quarto d'ora, siamo costretti ad andare a braccio, insomma, una specie di radio cronaca, ma non vi preoccupate. Comunque, comunque abbiamo tanto di cui parlare, tanto di cui speculare, e appena ci saranno, vediamo un po'. Dovrei essere in grado di mostrarvi pure, nella pagina ufficiale della FIDAL, i risultati che si aggiornano. Questi risultati qua, appunto, la gara che si appresta a partire adesso, i 100 metri paralimpici, vediamo se abbiamo già risultati. Come vi ha detto, Caironi, Maekawa, Sabatini, Shoten, è contrafatto con la tripletta olimpica, paralimpica di Tokyo. Ma quindi, aspettando che arrivi ancora, qualche informazione da parte, sia dell'elettronica, che dalla televisione nazionale, dicevo, alle 4.20, se lo triplo donne, con una, insomma, delle più vincenti della storia recente italiana, Cessonaro, contro il nuovo che avanza, soprattutto Veronica Zanon, e una buona componente internazionale, che probabilmente si aggiudicherà la vittoria, vediamo, questo spero che esalti, insomma, le nostre per far bene, poi, tra le altre gare, vedete, il programma è molto serrato, perché c'è una gara ogni 5 minuti, tranne in occasione di 100 metri, quando hanno lasciato quei 20 minuti, per celebrare un eventuale grande risultato, da parte, da parte di Jacobs, 6.25, qua, ovviamente ho sbagliato, 4.25, sto vedendo uno schermo piccolissimo, e quindi non ero riuscito a individuare, a individuare l'orario corretto, 100 metri donne, batteria 1, subito con Zanab Dossou, e poi la vecchia, guardia con Gloria Hooper, la seconda batteria, che vedete partire subito dopo, ma, ovviamente, ovviamente gli sguardi saranno puntati qua, soprattutto, alla gara che vedrete dopo, ovvero, i 100 metri uomini, batteria 1, dove avremo subito, Marcel Jacobs, tra l'altro, i tempi che vedete qua, in questa preview, sono i accredit stagionali, o meglio, i tempi realizzati, a partire da giugno 2021, quindi ecco perché, magari, alcuni personali non vi ritrovate, ecco perché Vico, è accreditato di 10,06, comunque, Jacobs, alle 4.35, in tempo per avere, appunto, la diretta della Rai, e potremmo vederci, questa gara, 100 metri uomini, batteria numero 2, con Desolue e Patta, abbiamo tre quarti del quartetto olimpico, che ha vinto l'Oroni, la 4% maschile, non c'è purtroppo Torto, che ha scelto, come purtroppo è suo solito, un programma completamente diverso, dal resto della nazionale, e quindi lo vediamo, in altri contesti internazionali, 200 metri uomini, alle 4.55, Faggin, Federici, a lottare contro 4 atleti, d'oltre, d'oltre Alpe, come Goleten, oppure, addirittura, dalla Repubblica, Repubblica Dominicana, come Giancarlo Martínez, ma vedete, c'è comunque molta bagarre qua, non un atleta che risalti, almeno per quanto riguarda gli accrediti, sugli altri, 200 metri donne, con una sfida che mi interessa molto, quella tra Irene Siragusa, e Dalia Caddari, che dopo i grandissimi risultati di inizio 2021, dovrà mettere la sesta, per cercare, non solo di consolidare i suoi tempi, ma anche di imporsi come una delle più forti atlete a livello europeo, europeo, perché ricordiamoci che oltre ai mondiali, quest'anno ci sono pure i campionati europei, dove potrebbe, perché no, puntare ad una medaglia. 110 ostacoli, le 5.15, con Fofana, scusate se ho scritto male nella mia infografica, a lottare contro, ad esempio, Pereira, a tempi sul 13 secondo basso, quindi molto interessanti, ma alla portata del nostro. una gara da circoletto rosso, alle 5.25, il getto del peso uomini, perché avremo i tre moschettieri azzurri del getto del peso, Weir, scusatemi, Ponzio e Fabri, soprattutto questi primi due, ma anche, diciamo, quest'anno è stato l'anno di Ponzio, con grandissimi risultati, soprattutto indoor. Weir, come sempre, è partito alla grandissima, lui che fa base in Sudafrica, quindi, insomma, ha fatto grandi risultati, già a partire dall'inverno all'aperto, i due hanno contribuito tantissimo alla vittoria italiana nella Coppa Europa di Lanci qualche mese fa, e poi Leonardo Fabri, che, come miglior risultato, dovranno a questa parte, ha il 21.71 fatto nella sua Firenze, quando il Golden Gala, appunto, per una volta non si è tenuto all'Olimpico di Roma. Ragazzi, una piccola pausa, leggo i vostri commenti, vediamo i risultati dei 100 metri paralimpici, e poi continuiamo questa scorsa del programma, di quest'oggi, e poi vi ricordo, le immagini le avremo a disposizione soltanto dalle 4.30. Perciò, scusate, mi sono operato abbastanza soddisfazione, ma devo ancora prendere un po' la mano, no? Quindi, ciao Massimiliano, dopo il record del mondo su 200 metri, dice Luca Daffara, Daffara, nella sua categoria, sono molto interessato a vedere il tempo di Ambra Sabatini, ce lo guardiamo questo tempo, speriamo che sia uscito qualcosa, quindi, questa è la start list, io non sono abituato, eccoci, e questo è un risultato incredibilmente non preventivato, ora non dico incredibile, perché Martina Chironi è, da questo punto di vista, un'atleta super esperta, ma guardate, non mi sarei aspettato che una Ambra Sabatini in grande spolvero, anche se solo di due centesimi, perdesse dalla più, dalla più blasonata, almeno per quanto riguarda, insomma, la più lunga carriera, compagna di nazionale, 14,49, addirittura a primato personale, con un vento di 0,1 a favore, quindi, insomma, non è che abbia aiutato, contribuito troppo alla prestazione, tutto nelle gambe di Martina, tutto nella, purtroppo, ho fatto una gaff subito così, ragazzi, lasciatemela, lasciatemela, lasciatemela correre, speriamo che non ne incorra in altri in futuro, comunque, Monica ha contrafatto, 14,88, nettamente staccate, rispetto a Kaede Makigawa del Giappone, 16,22, e Flor Schoiten dell'Olanda in 16,58, ci guardiamo almeno questa immagine che abbiamo, quella del photo finish, è stato proprio un photo finish super tesissimo, quello tra Caironi e Sabatini, e quindi la Caironi che vedete in primo piano, si va a prendere per soli due centesimi, per la prima volta sotto i 14,50, la vittoria nella gara dei 100 metri, forse, forse ora, non ho, non sono entrato molto nel dettaglio della preparazione di Ambra, in quest'ultimo periodo, però può essere che, avendo fatto anche un grandissimo tempo nei 200, stia, forse, per forse caricato al punto, da non avere avuto la brillantezza necessaria, l'esplosività necessaria, per avere la meglio su Martina, ma sono sicuro che tra qualche minuto, quando arriveranno le immagini in diretta, faranno vedere anche una replica di questa gara, molto importante, anche solo dal punto di vista di quello che è il livello azzurro delle Paralimpiari, e quindi potremo anche avere un'analisi un pochino più dettagliata di quello che è successo. Quindi, questa è una prima sorpresa arrivata dalle atlete paralimpiche, diciamo altri commenti, e poi continuiamo la nostra scorsa dei risultati. Francesco, non ti preoccupare, sarei probabilmente cenato all'allenarti, ovviamente, per tutti quelli che sono rimasti, e che rimarranno, vi ricordo che questa live, rimane caricata sul canale, e di conseguenza, se non potete beccarvela subito, potete guardarvela in differita. Comunque, Massimiliano fa il tifo per il nono a Carraro, perché la conosce. Dai, stiamo a vedere cosa riuscirà a fare. Tra le gare che non vi ho ancora presentato, dove era? Ecco, dal peso uomini, 100 ostacoli, Elisa Di Lazzaro è una B2E di questa gara, scusatemi, il luminoso a Bugiolo è una B2E, insomma, lei che ha origini liguri, di conseguenza, spesso e volentieri, è qua a fare grandi tempi, lo scorso anno, finalmente, dopo una rincorsa infinita, ha ottenuto il record italiano per un centesimo, era tantissimi anni, che gravitava da quelle parti, 12.75, Elisa Di Lazzaro ha fatto molto bene a Savona lo scorso anno, 12.90, ed è presentata come avversaria numero uno di luminosa per tutta la stagione, anche se nel finale di stagione un pochino ha pagato i grandi ritmi che ha dovuto ottenere per tutti quei mesi. Sara, Lavín e Elena Carraro sono, insomma, tutte atlete in grandissima crescita, il panorama dei 100 metri ostacoli femminili, il azzurro sta migliorando moltissimo negli ultimi anni, non c'è solo luminosa, e quindi aspettiamoci una grande sfida, soprattutto in casa, perché mi aspetto, Luca Kozak e Urske Reeta per la Finlandia e per l'Ungheria sono leggeri, anche se comunque i tempi sono dalle parti di Mulesonopogliolo, mi aspetto a avere una marcia leggermente inferiore alle nostre, che potranno darsi le battaglie ed infatuarsi, infatizzarsi appunto in questa sfida, infatuarsi in questa sfida. la finale dei 100 donne e i 100 uomini alle 5.40 e 5.45, quindi sarà poco, un affare di poco più di un'ora tra le batterie e la finale per, sia per le donne che per gli uomini, alla quale seguiranno quattro gare, 5 gare anzi di velocità prolungata e di mezzo fondo. Prima ai 400 metri ostacoli uomini con la sfida tra Giuseppe Incosme De Leon e Mario Lambrughi, due atleti che hanno fatto grandi cose, soprattutto a cavallo 2017-2018, poi sono venuti fuori altri grandissimi, pensate ad Alessandro Sibillo che purtroppo non è qua presente e quindi questi due che sono stati appunto in grande spolvero negli scorsi anni hanno bisogno di tornare finalmente sotto, un'altra volta sotto i 50 secondi. Può essere che questa sfida gli permette di raggiungere questo obiettivo alle 6.15 400 stacoli donne con qua a Iomide Falorunzo contro Sartori ed Olivieri, quindi ancora una gara interessante con molte deltette che caratterizzano il panorama italiano di questa disciplina e quindi alle 6.25 400 metri donne con Raffaella Locudo unica italiana e diciamo nel panorama italiano dei 400 metri quella che ha sofferto di più negli ultimi anni che ha bisogno disperatamente di tornare ai suoi livelli e diciamo chiudere il gap nei confronti di avversari che sono cresciute moltissimo in casa come è successo appunto negli scorsi anni il motivo per cui la 4 per 400 azzurra è arrivata vicina alla possibilità di giocarsi le carte in una finale olimpica lo scorso anno 400 metri uomini alle 6.30 e qua mi interessa molto la presenza di Catalin Tecucianu diventato italiano lo scorso anno grandissimo ottocentista il più grande ottocentista che abbiamo attualmente a conti fatti che però non ha fatto molti non ha fatto molti 400 metri almeno a livello nel quale si trova e seppur in prima corsia questa è la sua occasione per fare vedere di cosa è capace se riesce a fare un gran tempo con lui Lorenzo Benati che è a caccia del primo risultato sotto i 46 secondi 46.1 realizzato da campionati europei junior dello scorso anno ci sarà pure anche Brian Lopez quindi insomma un buon livello peccato per l'assenza di Scotti e quindi che avrebbe cosa che avrebbe ulteriormente sollevato il livello della manifestazione si chiude alle 6.40 con gli 800 metri donne tantissime atlete in grande spolvero non c'è Elena Berlò però abbiamo Federica Delbuono che dopo aver fatto grandissime cose e essere arrivata vicina ai due minuti netti a inizio carriera tanti tanti infortuni finalmente riproverà in una gara di livello guidata da Angelica Sarna polacca sotto i due minuti lo scorso anno a tornare su grandi tempi quindi questo è il tutto per quanto riguarda il programma delle gare di oggi il meeting è appena iniziato tra poco avremo anche le immagini scorsa veloce e poi ci concentriamo sulle gare in sé e leggo anche i vostri commenti quindi 100 metri paralimpici vinti un po' a sorpresa da Marta Caironi non era la vincitrice che mi aspettavo comunque almeno nel fotofinich gara bellissima mi immagino triplo donne che ha appena iniziato i 100 metri donne che sono in corso in questo momento 100 metri uomini si parla ovviamente di batteria i 200 metri uomini 200 donne 112 ostacoli uomini peso uomini 100 ostacoli donne le finali i 200 metri alle 17,40 e 45 400 ostacoli uomini alle 6,05 seguiti dalle donne e poi 400 metri donne alle 6,25 con gli uomini alle 6,30 e per concludere gli 800 metri donne alle 6,40 alle 7 siamo tutti a casa o meno per quanto mi riguarda esco a correre ok pronti appena si vede qualcosa di irrilevante è mio compito condividerlo quindi sarà compagnoni batteria di 100 metri donne dovrebbero essere corso come vi dicevo in questo momento ma c'è ancora pubblicità su Resport appena c'è qualcosa di interessante appena si vede qualcosa vi faccio vi faccio vedere ora c'è devo sempre fare lo solallon per quanto riguarda la questione dei diritti per fair use quindi per utilizzo legittimo dovrei essere in grado di sfangarla ma non si sa mai per questo motivo non posso farvi insomma trasmettervi la diretta Rai uno a uno ogni tanto devo fare delle pause devo centelinare il contenuto che vi propongo è già arrivato il risultato Simone Galletta intanto ti saluto ciao uno degli abituati di questo canale guardate queste sono le prime immagini quindi undicesimo miti città di Savona Giulio Ottola 18 maggio 2022 appena abbiamo dei risultati subito a voi purtroppo come avete già detto la prima batteria dei 100 metri donne si è già tenuta e ora non so se aspettare che magari una differita anche se di pochissimi minuti che ce la faccia vedere appena vedo che passano alla batteria successiva vi faccio vi faccio vedere i risultati altrimenti quel minimo di sorpresa ve lo voglio ve lo voglio lasciare comunque la start list della prima delle batterie dei 100 metri donne ve la rifaccio vedere niente niente stanno a far vedere la batteria numero 2 quindi è il mio compito farò vedere i risultati della batteria numero 1 e poi passiamo passiamo appunto alla seconda ma dati non ancora processati questo nuovo sistema non è che che mi convinca molto passiamo quindi alla presentazione della batteria numero 2 appena avremo risultati della prima la recuperiamo però è già arrivato nella chat quello che ha fatto Dossò quindi un grande risultato tra l'altro Dossò che è nata fortissimo nelle indoor quest'anno e doveva così come Chitturo Ali ripetersi confermarsi quantomeno dimostrare di essere in grado di fare grandi cose nella distanza più lunga nella distanza nella distanza outdoor quindi batteria numero 2 atlete dietro la linea di partenza io tengo sempre in occhio alla classifica e poi appena si mettono sui blocchi faccio vedere quello che è successo comunque Dossò 11.33 di accredito ciao Francesco i 100 metri maschi sono tra una decina di minuti scarsi ma se aspetti Marcel Jacobs praticamente è la gara dopo di questa la gara che vi sto per far vedere la seconda batteria dei 100 metri femminili con tra le tette più importanti Vittoria Fontana fatto grandi cose Vittoria Fontana fino a metà dello scorso anno poi si è spenta a partire dalla finale dei campionati europei è stato un po' un peccato però il suo 11.23 dello scorso anno è un grandissimo risultato ha pochissimo del record italiano e quindi parte la seconda batteria dei 100 metri con Vittoria Fontana in corsia centrale contro Molly Scott e sembra essere Vittoria Fontana nella seconda parte a venire su molto bene con un gran lanciato il tempo finale 11.37 stiamo a vedere il vento nella gara dei 100 metri paranipici il vento era intorno allo zero Savona è sempre molto molto clemente con il vento che di solito spinge il giusto di avversari senza essere irregolare ed è più o meno quello che è successo adesso vento più 1.3 11.37 ci rivediamo il replay di questa gara non ha fatto sfaceli Vittoria Fontana comunque una prestazione molto solida con una progressione che si è vista soprattutto nella seconda parte purtroppo la telecamera qua non è molto non è molto adatta insomma a vedere soprattutto la prima parte di gara per quanto sia schiacciata l'inquadratura vedete Molly Scott quanto sia molto molto più frequente di andatura però niente da fare per lei Vittoria Fontana si prende con merito la prima posizione aspettiamo i risultati di questa seconda batteria e poi ci andiamo a vedere anche quelli della prima e vediamo se nel live abbiamo qualche informazione che arriva pure dal salto triplo femminile ci sono soltanto due gare che non sono in pista quest'anno appunto il salto triplo femminile che vedete qua impegnata alla fondo una delle più importanti atlete che ha già fatto 14 e 15 tra l'altro comunque tra queste ancora i motori non si sono scaldati molto e gli accreti erano generalmente sotto i 14 metri già abbiamo un 14 e 15 nel salto di la fonda e i risultati dei 100 metri non arrivano quindi me li vado a recuperare possibilmente qua nella grafica niente non si vede intanto il salto triplo femminile ha il fatto il fatto è che ovviamente c'è lo stradomino di Rocas che mette un po' in in prospettiva quelli che sono i risultati delle altre atlete sembra questo però un grandissimo salto ero un po' distratto dai 100 metri femminili ma è un nullo è un nullo sarebbe stato ben oltre i 14 metri allora sentite manca pochi istanti a Marcel Jacobs batterie dei 100 metri maschile avrei voluto avrei voluto cercare di mostrarvi qualcosa ai risultati della gara femminile però questa questa informatica un po' mi tradisce e non hanno fatto vedere i risultati nemmeno nella nella diretta Rai quindi per ora sappiamo soltanto della vittoria di Vittoria Fontana nella seconda batteria il tempo che trappelato nei commenti per Dossò però aspettavo di avere dei risultati ufficiali per potervi dare quantomeno un'apparvenza di professionalità nel mio commento tecnico il fatto per accedere in finale bisogna essere tra i primi due della batteria ed avere altrimenti i migliori due tempi di ripescaggio sono solo sei le corsie di Savona ed è per questo motivo appunto che la finale diciamo ha dei requisiti piuttosto stringenti come vi ho detto al femminile ma soprattutto al maschile il livello tecnico di questa gara dei 100 metri è piuttosto alto oltretutto c'è da dire che eccetto Filippo Torto abbiamo praticamente tutti i più forti della nazionale ecco qua Marcel Jacobs un anno dopo l'inizio della cavalcata vincente che lo ha portato dal 9.95 appunto di Savona 2021 ai campionati alle Olimpiadi alle Olimpiadi non riescono nemmeno a metabolizzare questa cosa quindi alle Olimpiadi vinte in 9.80 Olimpiadi senza Coleman che ha rosicato non poco ma il buon Coleman ha esordito quest'anno con un tempo superiore ai 10 secondi quindi non penso che avrebbe fatto così tanti sfaceli non penso che avrebbe bucato la pista e battuto Jacobs di così tanto anzi la storia non si fa con i sé e con i mamma penso che Jacobs pure con un avversario così forte come Coleman avrebbe potuto avrebbe potuto lottare per la vittoria così come ha fatto all'inizio di quest'anno nei campionati mondiali indoor che erano sì la tana del lupo lì sì che Coleman 60 metri era ed è in teoria sulla carta più forte del mondo almeno lo è stato lo è stato sulla carta fino a che Martin Jacobs non l'ha battuto per millesimi al photo finish e quindi si è laureato dopo campione europeo indoor dopo campione olimpico anche campione mondiale indoor quindi sui 60 metri ma ora l'esordio di Marcel sui 100 doveva doveva gareggiare in Kenya qualche settimana fa un virus intestinale lo ha bloccato il programma avrebbe previsto un 200 metri qua a Savona dopo tanti anni che non correva questa distanza ma appunto per le difficoltà trovata in Kenya ha deciso ritornare nel suo cavallo di battaglia quindi Jacobs insieme a Dali in corsia numero 1 prima batteria dei 100 metri maschili vediamo dopo metà gara un Jacobs che non così stralipante già avanti rispetto ai avversari molto molto contenuto questo 10 secondi netti rendetevi conto in che modo Jacobs ha corso 10 secondi netti ragazzi aveva probabilmente due marce in meno purtroppo tempo non regolare per via del vento troppo forte ma quantomeno questo ci garantisce che il buon Marcel correrà pure la finale perché certo non si accontenterà di questo se visto proprio che non avesse spinto al massimo il nostro azzurro per il fatto che non scappava via nei confronti degli avversari durante il lanciato beh la decontrazione è involto durante la corsa il suo marchio di fabbrica da quando è iniziato ad andare fortissimo uno degli atleti con la corsa più efficace in questa disciplina viene complimentato anche da Marco Mura l'organizzatore di questo meeting in pochi anni lo ha fatto diventare una delle gare più importanti in Italia forse la seconda più importante in Italia dopo il Golden Gala arriva pure il presidente della FIDA mi pare di riconoscere Stefano Mei alle spalle scusatemi Stefano Mei alle spalle ora ha avuto questo piccolo inizitazione perché c'è un Massimo Mei in Toscana che quindi ogni tanto mi confonde con questa omonimia e perciò abbiamo un Marcel Jacobs vincente con grandissima facilità 10 secondi netti nella prima batteria dei 100 metri maschili andiamo a vedere se i risultati li aggiornano prima o poi sì allora datemi un momento perché adesso ci andiamo a vedere anche i risultati ufficiali dei 100 metri maschili poi discutiamo di questo inizio molto tranquillo di Jacobs e la possibilità di fare benissimo in finale Ali ha fatto 10 e 12 attenzione non è detto che si qualifichi per la finale 10 e 12 è un grandissimo tempo c'era pure Vico che è arrivato vicino a 10 secondi insomma sono andati tutti fortissimo ricordiamocelo ma ovviamente il problema era quel vento leggermente troppo a favore Jacobson non cambia niente lui è 980 ma attenzione agli altri quelli che arriveranno in finale spereranno per un vento più 1 e 9 per confermare questo grandissimo tempo cerchiamo di farvi sentire qualcosa di Jacobs un attimo però ho cercato di gestire abbastanza visto che tra meno di un'ora c'è la finale quindi ci vediamo dopo da cosa è di peso questo fatto di non tenerla bene ma non lo so forse sono rimasto un po' troppo giù nella prima parte invece che lasciarla sciolta come il solito magari può essere questo però cerchiamo di sistemare tutto dopo tutto molto tranquillamente c'era tensione prima di questa prima gara dopo quella di Toto diciamo che tornare al 100 un po' di tensione c'era però l'abbiamo l'abbiamo rotta adesso questa tensione quindi dopo speriamo di correre molto bene e molto forte lasciamo riposare a dopo grazie grazie Elisabetta Caporale peccato per questo vero povere orecchie mie non sentire Franco Bragania peccato che l'abbiano silurato comunque Marcel Jacobs non soddisfatto di questo suo esordio su 100 metri quest'anno poteva fare meglio dice lui problemi soprattutto nella prima fase nella seconda comunque ha controllato ma come avevo detto l'obiettivo era quello di arrivare in finale il più rilassati e carichi possibile essendoci poco meno di un'ora di intervallo tra le batterie di qualificazione appunto e l'evento finale in questa seconda batteria che si appresta a partire avremo tra gli atleti più importanti Desalù e Patta ma se abbiamo tre istanti di tempo ecco risultati ufficiali delle batterie dei 100 metri femminili e anche quelli che saranno qualificati per quelle che saranno qualificate per la finale vittoria con record del meeting di Daryl in età 11-12 ma l'avevate detto 11-19 grandissimo tempo di Zanabdus ora non so qual è il record italiano ragazzi forse un piccolo un piccolo problema ne ricordarmi allora prima gli uomini ovviamente eccoci 11-14 siamo a 5 centesimi dal record italiano con Zanabdus quindi stiamo molto attenti a quello che riuscirà a fare in finale il vento era più 1-0 quindi regolare non si è qualificata con l'oreo per molto indietro si è qualificata Geraldine Frey per la Svizzera e Jamie Samuel per l'Olanda nella seconda batteria vittoria Fontana 11-36 e Ellie Nelson 11-49 niente da fare per Salome Bertone Molly e Herrera quindi soprattutto nella prima batteria grandi cose dai 100 metri femminili abbiamo appena visto Jacobs nella prima batteria dei 100 metri maschili 10 secondi netti anche se con più 2-1 di vento e quello che vedete qua a sinistra invece è patta per quella che è la seconda delle batterie la seconda e ultima delle batterie dei 100 metri uomini eccoli partiti Desalù in 3 patta in 4 ma sembra andare molto bene Arturus Sissè per Costa di Vorio che come al solito ha un grandissima partenza un po' meno collanciato riesce comunque a resistere e a vincere stavano piombando sotto patta e Desalù stiamo attenti 10-10 erano tutti molto vicini nella prima delle batterie quindi mi sa che uno dei nostri dovrà per forza di cosa non correre la finale speriamo a questo punto che il vento sia regolare vediamo cosa è successo patta un po' in Cespica in partenza almeno non riesce a stare al passo che è uno dei più forti in questa fase di gara guardate come Momadou Fall per la Francia recuperi nella seconda parte senza riuscire però ad avere la meglio potrebbero essere eliminati entrambi gli azzurri mi sa per la questione dei ripescaggi peccato che abbia soltanto 6 corsie la pista di Savona hanno corso piuttosto bene certo forse il lanciato di patta poteva essere più bruciante ha fatto vedere cose migliori in altre occasioni Desalù comunque per essere per in massima parte un 200 metrista ha corso piuttosto bene aspettiamo questi risultati appesa un filo però la sensazione è che Vico e altri insomma abbiano fatto tempi migliori nella prima batteria erano tutti sì attaccati come in questa ma c'era quel decimo di vantaggio che avrebbe avrebbe significato insomma il la sottile linea che separa la qualificazione dal fermarsi alle batterie aspettiamo aspettiamo questi risultati questa era appunto la start list vado a vedere se sono un pochino più rapidi ad aggiornare i tempi nella grafica finale no no ancora niente quindi dovremo basarci sulla sulla televisione e quindi intanto leggo i vostri commenti appena arrivano cose interessanti ve le mostro ovviamente nel triplo femminile sembra essere sembra essere una gara un po' a senso unico con una superstar insomma dalle parti dei 14 metri sto guardando in questo momento il credo terzo salto di Lafond vi sì per ora 14.15 allora Alex Nicola speccato che non sia arrivato il 1999 che dicevi ma aspettate un attimo perché sentiamo anche Lorenzo Patta tanco però non lo so forse il caldo però sono soddisfatto comunque della mia gara niente da fare che hai lavorato molto bene che questo è il tuo esordio anche la scorsa la scorsa stagione ha iniziato da qui e direi che è stato un inizio che ti ha portato alle stelle diciamo che questa pista mi ha dato tante soddisfazioni il personale appunto di 10.13 che mi ha portato poi all'Olimpiadi quindi ci sono abbastanza legato dai da qui che stagione sarà non lo so speriamo bella migliore dell'anno scorso so che sarà difficile però a livello individuale magari dai qualcosina meglio grazie quindi questo era Lorenzo Patta che purtroppo dovrebbe essere il primo degli esclusi nella gara dei 100 metri uomini per la partecipazione alla finale vedete cosa succede qua Jacobs no è stato è stata giornata il 9.99 me lo dicevate ragazzi scusatemi scusatemi quindi la tua dai commenti non era una previsione ma era l'effettivo risultato conta poco come vi dicevo per il vento eccessivamente eccessivamente importante ma forse è stato proprio il vento determinato con pochi centesimi che non hanno permesso a patta di qualificarsi più un e3 nella seconda batteria appunto si se 10.09 fall 10 e 15 quindi risultato finale e composizione della finale dei 100 metri maschili tra poco meno di un'ora Jacobs Mudian Selage Vico si se Ali Ali è riuscito con il C12 ad accedere grazie a un grande risultato peccato per quel 0-1 di vento che non sia un primato personale ancora valido e poi fall 10 e 15 è una delle finali sicuramente da livello medio più alto forse quella da livello medio più alto che abbiamo visto a Savona sul campo questi atleti hanno fatto grandissime prestazioni come vi dicevo i primi degli esclusi patta e le saluti 10 e 19 10 e 21 poi Matteo Melluzzo 10 e 31 fatto vedere cose migliori lo scorso anno sì leggermente più sottotono ma non direi una delusione sono comunque dei grandi risultati per i nostri Antonio Mono Galbieri che invece sembra essere lontano dalla sua forma migliore e poi pure Polanco 12esimo 10 e 43 eppure una pista così veloce permette di essere ampiamente sotto 10 e 50 è stata una gara bella è stata una gara come vi dicevo da livello medio piuttosto alto anche nelle batterie vediamo che succede nella finale vedrete qua in alto 17 e 45 getto del peso che inizierà tra poco a cavallo degli ostacoli ma c'è anche vi dicevo il salto tripolo femminile vediamo se arriva un grande salto sì se la danno di santa ragione però le atlete le atlete non azzurre quella che vedete inquadrata ad esempio eccoci qua quindi un salto al triplo femminile l'unico concorso femminile è un nullo purtroppo è un nullo anche questo ci tradisce ecco sembra strano che la grafica non ci dia il live sì che ce lo dai il live sono io che non riesco a capire cosa fare ragazzi scusatemi scusatemi ma devo la fida l'ha cambiato sistema informatico da poco poteva essere migliore quantomeno quello che aveva finora era veramente antidiluviano quello che abbiamo appena visto era un nullo da parte di Naomi Metzger per la Gran Britannia è il nullo del tentativo numero tre però sono soltanto in sei altre scritte credo che possano quantomeno portarle tutte in finale quindi tutte salteranno sei volte il turno di Ottavio a Cestonaro attualmente quarta classificata certo questo aggiornamento continuo un po' disturba quarta classificata terza classificata con 13 e 85 e dopo di lei ci sarà Diana Zacanova Luca Sartori e Veronica Zainova ma come vedete il programma è veramente è veramente serrato perché ora siamo subito alla presentazione di un'altra gara come vi dicevo la gara dei cento no scusatemi questa è la riproposizione dei cento metri donne bene ci possiamo vedere il grande risultato di Zanaeb Dosso perfetto un attimo per rifiattare ma come vi dicevo poco dopo subito dopo questa gara avremo ancora avremo ancora delle delle gare importanti che si accavalleranno 200 metri uomini alle 16 e 55 200 metri donne alle 17 112 ostacoli alle 17 e 15 peso uomini alle 17 e 25 100 ostacoli alle 17 e 30 e poi a partire dalle 17 e 40 appunto le finali dei 100 metri uomini quindi abbiamo già abbiamo sappiamo già cosa è successo qua quindi grande risultato di Dosso che non ha vinto non ha vinto perché la vittoria è andata un'atletta britannica certo non controllata come già come è stata Zainab Dosso però credo che qualcosina riesca riesca ancora a buttarlo giù quindi Neita alla vittoria con 11 e 13 poi corretto in 11 e 12 record del meeting Dosso seconda in 11 e 19 bene ce l'abbiamo questi 5 minuti per leggervi i commenti si comunque Ricard fa Jacobs 9,99 camminando gli ultimi 20 metri chi stanno robicola sarebbe potuto venirne fuori più che camminare penso che abbia regolato il suo lanciato suo lanciato degli altri ma sappiamo quanto bruciante sia il lanciato di Marcel Jacobs rispetto appunto a quello che riescono a fare i suoi diretti avversari Coleman Coleman che troverà tra poco a Eugene perché Coleman sarà presente insieme praticamente tutti i più forti americani tutti quelli che hanno ottenuto una medaglia a Tokyo 2021 sia sui 100 che sui 200 metri insomma c'è pure Erion Knighton insomma una gara assurda che si prospetta tra pochi giorni Marcel Jacobs come vi dicevo sembra avere pochi avversari soprattutto in quella fase che qua lo ha visto semplicemente passeggiare sì esatto quindi è la sua arma di forza ma è difficile trovare debolezze se Marcel che è riuscito a lavorare sui suoi punti deboli la partenza negli scorsi anni è riuscito a migliorare anche i suoi punti di forza e adesso è diventato un atleta forse con meno debolezze con meno debolezze del Bolt post 2012 Bolt post 2012 quindi l'Olimpiade di Londra ha avuto una fase calante di carriera quindi se togliamo quei 4-5 anni della velocità mondiale nel quale i tempi erano decimi sotto quelli che vediamo adesso siamo siamo ad altissimi siamo ad altissimi livelli quindi e il bello è che appunto il rappresentante migliore del movimento l'erede al 100% di Usain Bolt se appunto è un italiano pronostici per quello che riuscirà a fare tra una quarantina di minuti in finale allora sperando che il vento rimanga intorno al più 1,5 più 1,6 senza sforare nel senza sforare nell'illecito senza sforare nell'irregolarità della ratificazione quindi del tempo ufficiale sarà detto sotto i 9,90 fattibilissimo anche solo il fatto di aver passeggiato nel finale un decimo te lo toglie sicuramente io spero qualcosa intorno al 9,84 9,85 quindi diciamo la mia previsione è 9,85 in questa quindi un decimo sotto quello che è realizzato l'anno scorso potrebbe già essere una buona cosa siamo a livello del mare quindi anche se con grande vento a favore comunque questo 9,95 varrebbe di più dell'esordio di Omaniala nella sua Nairobi quindi a quasi 2000 metri d'altezza vorrebbe dire certo un un gran messaggio insomma nei confronti degli avversari state attenti perché Marcel c'è anche per il 2022 Lore doveva essere moderatore ma siamo in quattro gatti lo prometto che se sono più di quando il canale diventa grosso Lore ci incontriamo firmiamo un contratto e appena mi tradisci partono partono i dolori no scherzo scherzo il fatto è che ovviamente non c'è bisogno che tu sia moderatore adesso mi dispiace lo so che è il tuo più grande sogno però c'è bisogno dal mio punto di vista di avere più numeri affinché questa cosa abbia senso quindi aspettiamo un po' va bene ciao Alex Mondix ora se volete sapere di più di quella che è stata la mia vita negli ultimi mesi certo credo che sia stato il periodo più brutto della mia vita però non è che me la sia passata poi così male alla fin fine ma dal punto di vista mentale è stato il periodo più brutto della mia vita sì c'è poco da fare però una volta che si accetta questo si può soltanto migliorare no? e quindi è bello essere qua a commentare con voi questa undicesima edizione del meeting Ottola di Savona e far vedere un po' cosa si riesce a fare parlavo di Usain Bolt non so se l'avete visto da qualche mese ho comprato questo può essere carino è un display tra l'altro ma ovviamente non sono sponsorizzato perché figurati se sponsorizzano un canale così piccolo Goleten stanno a far vedere 200 metri maschili scusatemi se lascio un attimo la lettura dei commenti perché ci concentriamo sulla prossima gara che è appunto quella dei 200 metri uomini abbiamo anche Martinez in corsia esterna e poi Tommy Ramdan per il Regno Unito come vi avevo detto è stata una gara con un livello medio molto molto interessante non c'è il super campione ma non si sa non si sa proprio chi potrebbe venire fuori da questa da questa gara c'è un Federici e un Fagin in grande crescita sono i rappresentanti azzurri ma non sono poi molti i decimi che li separano da Hansen e Goleten che però hanno il vantaggio delle corsie centrali certo in un 200 metri forse Giancarlos Martinez sarebbe quello che ha la corsia più favorevole mi sembra mi sembra di vedere che abbiano deciso di far correre gli atleti in modo da avere il ritalino finale a favore una pratica che esatto quindi il ritalino finale a favore una pratica che in America è super diffusa molto di meno in Italia il vantaggio è di avere qualche metro al secondo alle spalle anziché davanti sicuramente si sente bene così partita la gara Fagin, Federici, Hansen Goleten, Martinez e Radan vediamo un Goleten che esce fuori bene dalla curva ma cerca di venire sotto l'Italia corsia numero 2 con Andrea Federici Goleten davanti Federici che dovrebbe rimontare no è Simon Hansen Simon Hansen che si va a prendere la seconda posizione vediamo il tempo ci hanno abituato a correggere togliendo qualche centesimo nel tempo ufficiale per ora è 20.64 un'occhiata alla partenza abbiamo in corsia numero 1 Fagin in corsia numero 2 Federici che non ha avuto una brutta partenza ha spinto molto ha pompato molto in partenza Goleten che vediamo quindi avere già scavato un bel vantaggio nei confronti degli avversari con Simon Hansen per la Danimarca all'interno e poi lui che ha un fisico comunque molto molto pronunciato la necessità di resistere nella seconda parte un pochino impiccato il ritorno di Federici che però non è riuscito nell'impresa di venire sotto nemmeno Hansen in seconda posizione perché in corsia esterna ha fatto molto bene anche per la Repubblica Domenicana Giancarlos Martinez e poi Tommy Randand dovrebbe essere quarto posto alla fine per Federici che un pochino nel finale non ha fatto vedere a vedere al 100% le sue doti nel lanciato andiamo a vedere quello che è il risultato ufficiale e se ce lo se ce lo fanno avere dalla dall'informatica di questi 200 metri maschili e poi ancora altri commenti per ora risultato provvisorio dovremmo avercelo qua sì allora c'è un problema di questa allora di questo live che si aggiorna fastidiosamente a intervalli fin troppo stretti comunque Goleten vince con 20 e 63 su Martinez 20 e 66 vento più 1 e 3 quindi un ottimo un ottimo aiutino comunque nei limiti della norma Hansen 20 e 79 e addirittura quinto Andrea Federici perché è stato superato in corsia esterna da Tommy Ramdam mi sembrava un gran lanciato nella seconda parte di gara lanciato che però è valso soltanto è meno 40 meno 30 dall'arrivo perché poi altri hanno avuto possibilità di surclassarlo ma sono più o meno arrivati tutti sulla stessa linea quelli delle posizioni di rincalzo Alessio Faggin 21 e 33 lo danno come primato personale la tata più giovane categoria junior ma ora uno sguardo al triplo femminile perché abbiamo Veronica Zanon che non ha fatto bene finora ha bisogno di mettere in campo una bella prestazione quindi la rincorsa di Veronica l'erede di Cestonaro non chiude non chiude il salto non chiude il salto non so non so forse si è resa conto che non fosse poi così grande prestazione ma c'è bisogno di metterli una almeno un qualcosa non certo per la posizione questo è un meeting quanto per fare il punto sulla situazione sullo stato di forma analizziamolo ora non so se abbiamo avuto anche un problema fisico perché proprio la gamba sembra non tenere non tenere nel jump finale è stato una delle discipline più traumatiche nel panorama della tattica leggera andiamo a vedere quelli che sono i risultati provvisorili del triplo femminile siamo nel corso del quarto turno di salti dopo tre nulli Veronica Zanon ha realizzato un modestissimo 11 e 91 eccolo qua la situazione è ancora te la Fond in testa vediamo se riusciamo quanto meno non si riesce nemmeno a ordinare le atlete eccole qua per ranking questo sistema è super allora la Fond 14 e 53 addirittura mi sono perso questo gran salto spero che lo facciano che lo ripropongano in differita sulla Rai Giuseppe Giuseppe della Repubblica Dominicana seconda in 14 e 46 quindi una sfida che si è che si è infiammata tra il secondo e il terzo turno di salti Cestonaro in terza posizione in 13 e 85 quindi molto regolare come prestazioni ma ancora sotto i 14 metri deve mettere su quel 30 40 centimetri in più per poter essere soddisfatta del suo risultato ovvero comunque 14 di 18 ricordiamoci suo primato personale peccato appunto per Sartore Zanon la nuova leva del triplo femminile soprattutto Veronica Zanon grandi cose a sprazzi lo scorso anno qua come vi ho fatto vedere un salto che proprio non riesce non riesce a completarsi e siamo e siamo già con la partenza dei 200 metri femminili quindi Samuel Siragusa Dobbin Paolino Caddari e Neita curioso per Siragusa e per Caddari in una gara dal livello certo non è come lo scorso anno quando c'era addirittura Dina Asher Smith tra le partenti comunque un livello medio molto alto tutte atlete con un accredito inferiore ai 23 secondi chiude appunto con 22 e 99 Irene Siragusa allora Lupo Ellison intanto mi dici che per te Volta giocava in un altro campionato tanto ero forte Giacomo solo vero sui 9 e 90 in finale senza problema di Ranrobi forse sui 9 e 80 certo sì ha minimizzato quello che è successo il virus intestinale ma forse qualcosina avrà voluto dire oh thank you Jake of course that's Italian streaming so I'm talking in Italian but just for you I will comment in English this 200m final with Dalia Kadari in second lane and Irene Siragusa the two from Italy against many important foreign athletes and so in lane 4 we have Marilet Di Poligno 22.70 in the on the paper and now the final result is 22.60 so should be the best performance for this year it's been a very homogenous race in which many athletes were like on the same line up until the end let's see from the start in this replay okay I mean Poligno did like Golethane in the mail race maybe it was closer to the others up until the final lane the final the final part the final 100m Dalia Kadari was doing quite well and was yeah lost some meters in the final part of the race that's where Poligno really shines and Dalia Kadari for some for some centimeters didn't catch the second position va bene ragazzi posto con l'inglese torniamo all'italiano quindi Poligno che in realtà è venuta fuori molto bene nella seconda parte di gara con Kadari che era lì appollaiata alle sue spalle ma che avrebbe potuto fare fare di benio nel retellino finale dove in realtà ha perso qualcosina addirittura la seconda posizione quindi peccato per Kadari però il tempo di 22.60 della vincitrice non era per niente male infatti il risultato oh peccato peccato perché non so perché no c'è un errore di grafica ecco mi sembrava strano che avessi sbagliato la posizione di Kadari addirittura di 5 di 5 unità quello che è certo sì non hanno ordinati Kadari ha fatto 22.83 terza in età 22.81 seconda quindi un buon risultato per dare Kadari ragazzi sono alla fine due decimi siamo a inizio stagione due decimi siamo a inizio stagione da quella che è insomma quella che è una gara comunque vediamo il vento che è importante che ha fatto valere che ha fatto valere le doti della nostra vento regolare vento regolare anche se al limite vento più 2.0 e quindi ci sentiamo anche dalle Kadari diciamo che esordire a Savone va sempre bene perché diciamo porta bene ecco e quindi sono davvero felice di quello che ho fatto e della della prestazione soprattutto è andato fin qui tutta la preparazione è andata bene è andata bene e ovviamente sempre in prospettiva a quest'anno che veramente ci sono tanti appuntamenti siamo mondiali europei tanti europei mondiali quindi insomma ci sono belli appuntamenti bisogna stare al top in quegli appuntamenti grazie molto bene Kadari come vi dicevo una prestazione soddisfacente esordio 2.0 di metri di vento a seconda a favore ma a punto regolari discreto tempo esatto Luca dice Lupe i cartelloni un po' stoppano il vento a favore sì sicuro sicuro quindi ipoteticamente uno che corre in prima corsia riceve più o meno il vento che viene registrato tra l'altro sul retterino finale la differenza ovviamente è nel tempo della curva sì i 200 metri sono difficili è difficile quantificare il vantaggio di 2 metri di vento a favore proprio per il motivo che il vento viene preso sul retterino finale e sappiamo tutti se abbiamo accorso quanto sia quanto possa essere noioso avere un vento anche se non completamente contro laterale in curva ovviamente una misura più corretta dovrebbe tener conto dell'orientamento del vento sia nella curva che nel retterino finale e questo vorrebbe dire che ci possono essere più 2-0 di vento e comunque tempi alla fine non troppo gonfiati o un 2-0 di vento con una curva praticamente che ti sostiene una specie di duegano alle spalle e tempi molto molto più più interessanti ecco sì la questione dei cartelloni come dici tu può diciamo non condizionare troppo la porzione di gara che è la prima parte e quindi insomma gonfiare il tempo finale allora Lupo Ellison è una contraddizione dire i cartelloni sposti dando la gara dei 100 metri ostacoli femminili il getto del peso maschile 100 metri ostacoli femminili ma prima i 110 ostacoli maschili ora in corso c'è il salto triplo femminile siamo al quarto turno di salti completato quindi altri due turni per tutte le atlete il quinto turno inizia con nomi mescher attualmente dovrebbe essere no in quarta posizione per lei un 13 e 85 realizzato proprio adesso al quinto tentativo e subito dopo avremo Veronica Zanon e poi nell'ordine appunto sì Sartori Zakaenova Cestonaro Giuse e Lafond attualmente in testa con 14 e 53 non distante dal primato personale di 14 e 60 ma siamo ecco circa un metro sotto quanto riesce a fare la grandissima inimitabile Rocas che ha spostato avanti quella che è la stricella di questa disciplina di tantissimi di tantissimi di tantissimi centimetri e prima di lei Bargwen sì confermo l'opinonissimo negalletto una grande gara quindi di Caddari mi sono perso un po' il risultato di Siragusa o meglio l'ho letto ma distrattamente avevo detto che ero curioso di sapere quanto avrebbe fatto 23 e 26 ecco per una classe 93 esordire così non è per niente male quindi Siragusa che è arrivata in quinta posizione davanti a Giamelli Samuel 23 e 37 certo il vero buco si è creato tra le prime tre e le altre e abbiamo visto quanto la seconda parte di gara si è riuscita a determinare quella differenza Rebecca Sartori quindi salto triplo femminile Sartori e Zanon vi dicevo un po' in difficoltà ma hanno ancora due salti per potersi redimere quindi Zanon ha fatto purtroppo nullo questo quinto tentativo ed ora Sartori per ora 12 e 66 quindi gara regolare quel salto precedente era 12 e 51 certo molto molto nelle retrovie vediamo questo spero che non sia nullo ma è dalle parti degli altri salti è dalle parti degli altri salti vediamo se abbiamo qualche informazione in più da Atletica appunto me dei trascorsi atletici di Sartori in quest'ultimo periodo ho sbagliato Sartori mi ricordo Rebecca al Sartori ovviamente Lucrezia eccoci qua niente mi tradisce Atletica appunto me non riesco a connettermi all'atleta corretta ecco Zagainova ecco si avanza con un top molto particolare che fa tanto anni 90 se mi chiedete quindi Lucrezia Sartori classe 2001 13 e 13 di personale nel Triblo quindi non è che siamo poi così lontani quest'anno ha esordito con un 12 e 43 dopo aver appunto diciamo migliorato e migliorato i suoi i suoi risultati nel corso del 2021 purtroppo un fine carriera un fine stagione piuttosto brusco per lei nel 2021 e la possibilità quindi di tornare di nuovo sui livelli qua a Savona per il 2022 quindi Zagano va da quelle parti non mi sembra che questo quinto turno di salti scusate stia mescolando le carte intanto c'è un po' di pausa dalla pista perché stanno a sistemare gli ostacoli delle gare sul rettilineo e quindi abbiamo a brevissimo tanto lo verete comunque scorrere qua in alto la prossima gara che vi faccio vedere anche qua con il con la grafica 17.15 pochi minuti appunto Trgovcevic Simonelli Fofana Pereira Zaza e Van der Schaaf con Fofana nelle corsie centrali e Pereira che ha qualche centesimo decimo e mezzo di vantaggio a guardare gli accrediti il salto triplo femminile vede adesso in pedano a Cestonaro ma c'è anche l'intervista a Desalou quindi ci sentiamo pure questo perché comunque il personale alla prima gara ad esordio ci sta c'è ancora da animare qualcosina lì però qua negli ultimi metri volavo quindi visto che io sono comunque un duecentista e mi serve la fase lanciata sono contentissimo per gli ultimi metri devo animare qualcosina però sono sicuro che prima o poi un bel personale quello che voglio io arriva grazie grazie a voi bene mi ero perso sapete che pensavo che Desalou avesse dei tempi migliori sui cento metri in effetti sì è un grande risultato quello che ha tenuto rispetto ai suoi precedenti le sue precedenti uscite sulla distanza e come ha detto lui quello che gli interessava è avere un buon lanciato finale alla fine se confrontiamo questi tempi con i tempi realizzati ad esempio da Filippo Torto ora non vorrei essere cattivo però Filippo Torto in Nairobi questo intanto Tava Cestonaro che si avvicina a 14 metri Filippo Torto in quota con più 2-0 di vento è andato più piano di Desalou qua sotto quindi sì quindi insomma è Desalou come Torto quest'anno punta ai 200 metri e alla staffetta quindi stiamo attenti perché non avrà vita facile e sono contento per questo non perché voglia male a Filippo figurarsi ma perché la competizione è quella che trascina il risultato e quindi avere un pungolo di non essere per forza di cose il più forte in Italia sui 200 metri può portarlo a reggere e a migliorarsi e a diciamo imporre la sua superiorità con un tempo forse sotto i 20 secondi che è quello che spero sia l'obiettivo almeno almeno di quest'anno di Filippo Torto sulla distanza quindi le migliori del triplo femminile dopo il salto che vi ho fatto vedere all'extremis 13 e 66 quindi sotto il 13 e 85 del turno precedente che l'aveva issata in terza posizione Giuse Tima Tima Giuse ha realizzato 14 e 46 fai vedere no questo è un nullo quindi 14 e 46 rimane il secondo turno al secondo turno di salti non sufficiente però per per la vittoria ancora avrà un salto di posizione potersi migliorare ancora in testa però c'è Té alla Fon con 14 e 53 adesso presentano però i 100 metri ostacoli 11 metri ostacoli femminili che vi ho che vi ho già presentato e quindi vediamo se c'è qualche altro commento il mondo ciao pronti per vederci tra una mezz'oretta alle finali dei 100 metri maschili la mia previsione come avevo già detto qualche minuto fa 9 e 85 nei commenti già chi ha detto 9 e 90 magari anche per colpa di quello che è successo appunto per colpa di quello che è successo in Kenya con quel virus intestinale che gli ha impedito di correre in una gara dalle condizioni favorevolissime contro quello che sembra essere uno dei più importanti avversari di quest'anno sulla distanza ovvero Omaniala e staremo a vedere poi quello che succederà tra qualche giorno a Eugene in Diamond League dove avremo tutti ma proprio tutti quelli che potranno ambire a una medaglia dei vincitori di Tokyo 2021 su 100 metri su 200 metri e Erion Knighton insomma a sfidarsi in una gara dal livello super vi do il risultato del quinto turno di salti di Lafond ha fatto per lei un 1392 qualche parecchio sotto insomma il risultato del terzo turno il motivo per cui è in testa e quindi passiamo alla presentazione dei 110 metri ostacoli giovane Simonelli insieme a quando non c'è Dal Molin la stella indiscussa della distanza e della disciplina per l'Italia Fofana peccato per Dal Molin che ha una carriera costellata di problemini piccoli e grandi che gli impediscono di essere sempre al top ed essere sempre lì insomma in gara sarebbe stata una bellissima sfida avere anche Dal Molin oltre a Fofana vi ricordo purtroppo che Perini ha lasciato l'atletica agonistica lo scorso anno e quindi però abbiamo anche degli interessanti atleti dal punto di vista internazionale quindi Perera soprattutto 13 e 27 Zaza per la credo la Liberia e Liam van der Schaaf per l'Olanda gli ultimi tre che avete visto presentare e in corse numero uno Luca Trgovcevic stiamo a vedere quindi atleti che si stanno per mettere sui blocchi 110 ostacoli maschili dopo di questa avremo il peso maschile con il terzetto Wier Fabri e Ponzio 100 ostacoli femminili e poi il tempo di togliere gli ostacoli e andremo sui 100 metri piani prima le donne con Dossot a ricordiamoci non parliamo mai abbastanza di Dossot è arrivata così vicina al record italiano la possibilità che riesca a batterlo qua in finale e poi ovviamente poco dopo Jacobs l'orario delle gare lo vedete scorrere in alto nel commento un al tempo un al tempo qualche minuto oltre il tempo prestabilito questa partenza dei 110 ostacoli Abu Jawud 987 let's see I said 985 ma vediamo vediamo 995 dello scorso anno eh sì finalmente è tornato anche sul primo canale in un evento degno però diciamo questo se c'è una cosa di cui mi sono reso conto in quest'ultimo periodo è che molto spesso a frenarmi sono stati degli stupidi dubbi perfezionisti e questa cosa non si è ripercorsa soltanto su quello che ha vissuto questo canale ma anche in altri aspetti della mia vita e di conseguenza perché non buttarsi certo non sono uno super alla fine insomma in fin dei conti sono molto più prudente di quanto mi dipinga ecco sì sono stravagante se no non avrei questo canale però quando mi butto nelle cose sono molto più prudente di quanto di quanto si pensi e di conseguenza se c'è da fare una diretta per commentare le menti di Savona perché no no siamo siamo qui siamo noi e questa è la prima contro cronaca quindi insomma si sale un pochino anche anche nelle aspettative l'obiettivo è quello di darvi un'esperienza comparabile se non migliore chissà forse sto un po' esagerando con quello che la Rai riesce a fornire boh che flexata inutile tutto questo perché sto aspettando appunto la partenza dei 110 ostacoli maschili corsia centrale per Assan Fofana numero 3 e poi in 4 per il Brasile il suo avversario più importante almeno sulla carta Raffael Pereira partenza regolare dovrebbe essere leggermente avanti Pereira Fofana si ferma ed era un pochino indeciso sugli ostacoli Pereira è involato verso la vittoria dietro una lotta fra Simonelli e Zasa Simonelli che si va a prendere la seconda posizione aspettiamo il tempo di Simonelli la vittoria in 13 e 37 di Pereira non male vicino al suo primato Simonelli aveva 13 e 79 forse forse la possibilità per lui di migliorarsi e stiamo a vedere cosa è successo Fofana che sembra aver avuto un problemino prima dell'attacco del terzo ostacolo sembra che si abbia avuto una piccola smorfia quando ha cercato di azionare il quadricipite destro forse è quello il motivo per il quale comunque non avendo iniziato al massimo si è fermato in questa gara dei centri dei giostacoli si stava toccando si sembra che si stia toccando il davanti della il davanti della gamba destra o forse semplicemente era fuori era fuori ritmo nel finale Pereira in coccia ma non butta giù due ostacoli comunque qualche centesimo lo perde forse poteva andarci un pochino più vicino al suo primato comunque tempo ufficiale 13.36 ora aspetto il risultato per Lorenzo Simonelli perché siamo siamo lì e nell'aria c'è un primato personale almeno per lui allora risultato per Simonelli 13.80 no pochi centesimi l'hanno separato un centesimo lo ha separato da questa soddisfazione comunque buona prestazione buona continuità Atleta Classico 2002 14 netti per Wellington Zaza in posizione numero 3 davanti a Luka Trgovcevic quarto in 14.01 e poi Wander Schaaf in 14.03 adesso Cestonaro ultimo salto di gara sembra aver preso una buona pedana potrebbe no secondo me non è un miglioramento rispetto al secondo al 13.83 che la vede attualmente ancora credo in tredicesima posizione ha fatto qualche passettino di troppo per azzeccare la buona pedana ma questo l'ha fatto perdere quella velocità necessaria per poter fare grandi cose ora si è fermata la diretta io stavo per un attimo stavo morendo dentro ma è colpa della Rai perché vedo che è verde qua la lucina quindi insomma la mia diretta va è la Rai che non che non sembra non sembra collaborare proviamo a riavviare no eccoci di nuovo qua perfetto non abbiamo visto il replay della della Cestonaro ma vi dico il risultato finale dell'atleta azzurra ha perso una posizione gliel'ho gliel'ho tirata ha fatto 13 e 26 ma adesso davanti con 13 e 87 c'è Nomi Mesker ma ora sentiamo Simonelli diciamo che non è andata benissimo ma come prima gara ci può andare l'esordio non è mai la gara migliore dell'anno quindi l'obiettivo è cercare di migliorare sempre più a lungo andare hai visto come caso cosa è successo da San Fofanano non ci ho fatto particolarmente caso sono notato che non l'ho visto all'arrivo e ho detto è successo qualcosa comunque cercheremo adesso di saperlo direttamente da lui grazie grazie a voi ciao grazie Elisabetta Caporale speriamo di grave per San Fofanano non mi sembra sto perdendo sto perdendo il punto fatemi fatemi togliere questo audio perché qua sta tutto da soli ecco perfetto quindi abbiamo sentito di Simonelli che non è soddisfatto comunque un centesimo dal 13,79 da credito quindi comunque mio parere una buona prestazione Abu parlavo in inglese ma la maggior parte dei miei follower sono italiani quindi la maggior parte parlo italiano ma se esprimamente necessario parlare in inglese per un momento ma in inglese di San Fofanano primo polpaccio dopo appena sono partito allora problema polpaccio è inutile provarci se no mi creo qualche danno e la stagione va a fregarsi quindi niente come sei arrivato qui a parte questi crampi e che cosa quali sono i tuoi obiettivi mentali di questa stagione importante dopo poi quello che è accaduto magari all'indoor io sono arrivato qua con l'idea di fare la migliore apertura di stagione quindi un 13 e mezzo così magari potremmo anche vincere perché mi sentivo proprio bene ovviamente devi lottare col corpo se il corpo dice oggi no devi accettare quello e sarà per la prossima grazie sì la prossima bene molto molto realista Fofana quindi stop for precaution because of the problems of the calves quindi problemi a polpacci ma ma comunque comunque non mi sembra essere poi così abbattuto la stagione è lunga questo era era appunto l'inizio era era l'overture di questo 2022 per lui quindi stiamo a vedere cosa riuscirò a fare appunto sto parlando dell'outdoor ora sono arrivato a 5.000 iscritti sì lo speciale Davide sai quanto tempo è il motivo per cui per cui stavo facendo quel discorso sul perfezionismo prima io avevo in mente ho in mente una cosa molto interessante per lo speciale perché mi hanno detto mi hanno detto che alla fine avere soltanto ecco il miglior tempo del miglior uomo forse non era corretto nei confronti degli altri quindi avevo pensato di fare un video nel quale ai quattro angoli facevo vedere i quattro importantissimi risultati della storia dei 5.000 metri quindi sì il record del mondo attuale per Ceptegay ma anche le prestazioni di Bekele ma anche alcune prestazioni record femminile e altre prestazioni importanti del passato e nel frattempo avrei avrei narrato la storia dei 5.000 metri nel dettaglio in quei 13 minuti ovviamente il tempo si sarebbe fermato esattamente a quello dell'attuale record del mondo gli altri gli altri filmati sarebbero partiti con il vantaggio con il vantaggio necessario finché tutti gli atleti concludessero nell'esatto nell'esatto istante ma sapete questo grandissimo progetto si traduce in un incubo di montaggio del motivo per il quale con tutto quello che si è accavallato nella mia vita da quel momento in poi è stato per forza di cose spinto in avanti si spinto in avanti e rimandato non vi do promesse non vi do non vi do promesse perché non sono sicuro che la situazione stia così migliorando adesso per quanto riguarda gli impegni al di fuori del canale ma certo questo non è il momento di parlarne se volete ogni tanto mi lascio andare nel terzo canale il mezzo fondiere il mezzo fondiere extra nel quale giornalmente vi aggiorno anche sui miei allenamenti si ricchi ricchi si scusami se comunque se volete vedere le gare sono in alto che scorrono perciò abbiamo visto i 110 ostacoli con la vittoria di Perera che ci aspettavamo Fofana che si è fermato per problemi ai polpacci la prossima gara in pista è i 100 ostacoli femminili con luminosa boiolo eccola qua che sfiderà di Lazzaro ma anche sarà la ven Elena Carraro Sara Lavin Elena Carraro Luca Kozak Retta Urske sarà una bella gara quella dei 100 ostacoli femminili e nel frattempo dovrebbe essere già partita da qualche istante il peso uomini ma adesso ci vediamo l'ultimo salto del triplo femminile la vittoria è andata a Thea Lafont e qua la vediamo prendere la rincorsa per gli ultimi tre balzi di gara si vede che è di un'altra categoria speriamo perché ha pizzicato la pedana forse forse sì il salto è buono ed è contenta forse ha rituzzato di qualche centimetro la sua migliore prestazione 14 e 53 chiude con 14 e 42 quindi ancora sotto comunque 14 e 53 è il suo esatto dice 52 14 e 42 14 e 53 è il suo primato personale una grande velocità di eseguazione è quella che le ha permesso di averla meglio sull'avversario e purtroppo Cestonaro si è fermata sotto i 14 metri andiamo a vedere i risultati ufficiali del salto triplo femminile eccoci qua Lafont Giuseppe Metzger tra l'altro appunto Cestonaro ha perso il podio all'ultimo tuffo salto di Metzger 11 13 e 87 poi Zaganova Sartori e Zanon hanno fatto purtroppo una cattiva gara soprattutto Zanon 11 e 91 dispiace per un atleta che è di primato personale a 13 e 84 quindi andiamo verso la gara dei 100 metri ostacoli femminili sperando che facciamo vedere qualcosa anche del peso vi ho parlato di Weir, Ponce e Fabri ma mi ha interessato anche la partecipazione di David Storl David Storl per chi magari è più giovane di me è stato un grandissimo atleta del panorama del peso maschile prima che saltassero fuori i crauser di turno e quindi queste prestazioni eccezionali che hanno spostato l'asticella oltre ben oltre i 23 metri David Storl era un personale superiore ai 22 ha vinto due titoli mondiali e un argento olimpico ma è in crisi nera praticamente dal 2018 anche se una prestazione niente male lo ha realizzata credo nel 2020 D'Arshtat ma comunque staremo a vedere per ora 20-82 negli ultimi 12 mesi e dispiace dirlo ma non sembra rappresentare un problema nei confronti dei tre più forti rappresentanti del getto del peso italiano a meno che a meno che non risusciti ed è quello che mi è quello che spero ecco per lui qua a Savona pronti per la gara dei 100 metri ostacoli femminili intanto ho avuto un attimo per parlare pure di Storl e questa è Ursk per la Finlandia Boiolo è nelle corsie nella corsia centrale la numero 4 di Lazzaro in 3 sono loro le due atlete favorite ecco qualche centesimo meglio per Luca Kozak Ungheria in corsia numero 5 ma dal punto di vista della carica emotiva anche insomma della carica agonistica penso che qua nella sua Savona luminosa Boiolo abbia una marcia in più ma staremo a vedere si mettono sui blocchi in questo momento per ora abbiamo 100 metri ostacoli femminili partenza in questo momento non è partita molto bene Boiolo meglio di Lazzaro però Boiolo recupera nella parte centrale di gara grande rapidità di gestione del gesto attenzione anche alla corsia esterna con la finlandese che le dà fiducia fino all'ultimo momento e purtroppo appunto è la Finlandia con Urske a vincere in 12 e 95 non è stata una gara eccezionale per quanto riguarda i tempi certo Urske è contenta di questo risultato lei aveva 12 e 78 di accredito credo che per Luminosa Bagliolo il problema sia stata la fase iniziale certo è difficile vedere con questa inquadratura non perpendicolare alle corsie però ha perso quel mezzo metro forse quel metro nei confronti di Lazzaro che non è certo un atleta non è certo un atleta di seconda fascia ma non sembra essere al top di condizione adesso ha perso anche nel finale e forse purtroppo per lei è arrivata all'ultima posizione quindi Luminosa Bagliolo ha avuto qualche difficoltà nell'inizio di gara e non è riuscita a recuperare la fuga di Urske in corsia numero 6 che si va quindi a prendere la vittoria con un tempo leggermente inferiore rispetto a quello che la pista di Savona per gli ostacoli ci aveva abituato risultati ufficiali Urske 12.94 Boiolo comunque lei tantissime volte in carriera è scesa sotto i 13 secondi ancora una volta 12.99 13.17 ultima posizione per la di Lazzaro questo è Storlo come vi stavo dicendo la gara del getto del peso che sta per iniziare quindi con leggero ritardo rispetto al previsto andiamo a vedere risultati ufficiali dei 100 metri ostacoli e appena tolgono questi ostacoli quindi it's a matter of a few minutes per chi ci segue dall'Inghilterra it's a matter of a few minutes and we'll have the final for the 100 meters women and then the men like quarter hour and we'll know perfetto un quarto d'ora e sapremo risultati ufficiali 100 metri ostacoli donne mentre ho chiuso proprio scusate non vi ho fatto vedere la presentazione di Nick Ponzio molto molto carico a pallettoni come sempre Leonardo Fabri sorride Fabri non è più la star indiscussa del peso italiano per la presenza di Weir e di e di Ponzio ma questo se riesce a trasformare appunto la lesa maestà in carica agonistica e Fabri è uno che dal punto di vista mentale è super i risultati si troveranno di nuovo vi ricordo Fabri ha avuto una crescita impetuosa fino al 2020 con 21,99 in gara e veniva riportato anche prestazioni sopra i 22 metri in allenamento ma poi purtroppo un covid preso a inizio 2020 insomma credo a inizio 2021 comunque il covid ha pagato il conto il risultato è stato che non si è più ritrovato se non in alcune sparute occasioni dalle parti dei 22 metri tra tutte il risultato ottenuto l'anno scorso al golden al golden gala di Firenze era fino all'ultimo lì per la vittoria ma poi ma poi con l'assurda regola che era stata revocata è stato relegato in terza posizione boiolo aveva spaccato no sono contenta di come ho gestito la gara perché prima di arrivare qua ammetto che non avevo grandi sensazioni ma perché ho lavorato veramente tantissimo quindi e so perché i miei allenatori me lo ripetono che devo entrare in forma quando conta ma per me qua valeva tanto perché essere in casa mi piace e soprattutto ho fatto praticamente andavo a tutti i micchi di meeting all'estero a convincere la gente a venire qua quindi sono proprio stata contenta di avere una gara così grazie grazie mille buona giornata tanto hanno suonato mentre sto qua a commentare ma ufficialmente non ci sono diciamo si commenta l'atletica leggera quindi mi sa che ci siamo persi proprio quegli istanti in quale diceva che qualche problemino nella partenza comunque lei è una delle ambasciatrici come diceva di questa di questa manifestazione super importante cresciuta anche grazie al suo contributo Zen Veer comincia e apre le danze nel getto del peso maschile Veer ancora una telecamera che non è per niente adatta a seguire la gara purtroppo ci sono problemi di angolature dobbiamo aspettare il risultato perché non sono proprio riuscito a vedere dove si è posato il peso forse qua si vede un po' meglio ecco sembra comunque che abbia cominciato con relativa tranquillità no è un nullo è un nullo perfetto era così lontana l'inquadratura che il mio schermo è così piccolo per riuscire a infilarci tutto che non avevo nemmeno preso questo questo dettaglio sentiamo adesso l'intervista a me il presidente della federazione di atletica italiana il percorso di Marcel Jacobs tra poco ci sarà la finale una stagione importantissima per tutti gli atleti di questa federazione sì diciamo la stagione ha cominciato un anno un anno fantastico perché avremo una serie di gare importantissime un po' dovute allo stagione grazie intanto Lupo per aver messo il tuo inglese al servizio del pubblico internazionale Darforte hanno tutte tutte le occasioni perché si è già visto ai campionati del mondo indoor di Belgrado ma poi mondiali europei un po' sono invidioso perché non ho potuto vivere delle stagioni così però sicuramente sono contento perché ognuno di loro avrà un'occasione perché è chiaro noi abbiamo cinque campioni olimpici da cui tutti si aspettano grandissime cose ma ci sono tanti altri atleti che magari non sono stati campioni olimpici e magari hanno fatto una buona olimpiade ma non hanno raggiunto risultati assoluti e credo che ci saranno le occasioni quest'anno per dimostrare che dietro molto politico istituzionale Stefano Mei però giusto è stato anche fortunato da trovarsi un'atletica leggera così pimpante per l'Italia aspetto molto ecco per esempio dalla truppa degli under 23 che l'altro anno ha così fatto bene a Talli così dai più giovani e ovviamente mi aspetto tanto anche dai ragazzi che dovranno dimostrare chiaramente di quello che abbiamo fatto l'Atletica benissimo tanta buona atletica anche a Roma anche col Golden Gate perfetto ora per ora nel cetto del peso maschile Ponzio 20 e 63 in testa Fabri secondo 19 e 54 nullo sia per Weer che per David Storl gli altri tre che devono ancora lanciare sono in sei iscritti Riccardo Ferrara che vedete in questo momento Sebastiano Bianchietti e poi Frederic Dagé scusate la mia ignoranza io so che Weer Fabri dovrebbero sì 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 dov'è quando serve il figlio del tecnico per confermarlo si allenano insieme con dovrebbe esserci anche Riccardo Ferrara insomma il clan il clan del getto del peso italiano bisogna prendere un pochino di nuovo la mano giusto quindi questo risultato di Riccardo Ferrara 1889 poi avremo Bianchietti e Dagé 100 metri femminili tra pochissimo ci guardiamo Bianchietti e Dagé e poi probabilmente la telecamera si sposterà verso la start list della finale dei 100 metri maschili femminili scusate e poi i 100 metri maschili andiamoci a vedere la composizione della finale aspettando di avere ecco torniamo quindi ai risultati appena abbiamo il risultato di Bianchietti nel peso 18,92 poco sotto il 19 questi quindi queste quindi le protagoniste della finale dei 100 metri femminili nei Tados o Frey Fontana Samuel Nelson e qua vedo 7Q ragazzi e non possono essere 7Q questa 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 tecnologia un po' fallisce Salome Cora non è qualificata e probabilmente il fatto che qua ci sia un MR ha spostato tutto di uno sotto vabbè ci sta ci sta lasciamogli il tempo di migliorare Vittoria Fontana è qua ha vinto la batteria numero 2 anche se i tempi erano un po' inferiori rispetto a quelli realizzati nella batteria numero 1 dove ha brillato col secondo posto Senab Dosso eccola e devono ancora aggiornare a sto personal best scusatemi un attimo perché il tempo col quale si è qualificata 11.19 aveva un tempo è un vento regolare quindi prima o poi vedremo un 11.19 appunto di fronte Nelson e Frey a chiudere questa line up questa linea di partenza dei 100 metri femminili secondo voi lo fa o non lo fa il record italiano Zainab scrivetelo nei commenti nei prossimi secondi prima che diano il via alle danze Alberto sei per caso in Oregon fa caldo in Oregon qua in Germania sono 29 gradi ed è assurdo che siano 29 gradi in Germania pronti però per i 100 metri femminili attenzione corsia numero 2 Fontana corsia numero 3 Dosso partite sembra molto bene Dosso attenzione lanciato finale perché potrebbe essere solo la vittoria Dosso la vittoria in 11.22 11.22 qualche centesimo sopra quanto fatto vedere in qualificazione ma è interessante è interessante che Daryl Neita non abbia avuto la forza di di andarla a prendere forse non era nemmeno presente a questo punto ho fatto una piccola gaff no eccola là in corsia numero 4 Dosso le era le era a fianco e poi ha messo il turbo nell'ultima parte di gara Fontana l'ha seguita e per lei dovrebbe essere arrivata la posizione numero 3 perché in corsia numero 5 ha avuto un avversario che le ha preso le ha preso le ha preso qualche centimetro di vantaggio scusatemi se non ho potuto commentare in maniera adeguata questa finale perché ero nella pagina sbagliata della diretta però è interessante vedere come Dosso sia super competitiva e costante nei suoi risultati 11 e 21 il risultato ufficiale di questa finale dei 100 metri donne e andiamoci a vedere appunto qua quello che è successo nel dettaglio nei risultati Dosso 11 e 21 ancora confermato il record del meeting mi sembrava avento regolare nelle qualificazioni scusatemi perché forse forse ha avuto forse ha avuto io non capisco se questo più 1 e 0 voglia dire che questo 11 e 12 è il record del meeting o no o se è questa informatica che sta dando dei problemi comunque finale di 100 metri donne 11 e 21 per Dosso 11 e 31 per Frey e quindi corsia esterna per la Svizzera personale e vittoria Fontana 11 e 34 sì scusatemi per la gaff Neita dopo il grande risultato della qualificazione ha deciso di non correre la finale del motivo per il quale Dosso ha avuto da una parte via libera dall'altra abbiamo avuto la partecipazione anche di Salamecora per la Svizzera sesta in 11 e 61 Fontana 11 e 34 vento più 0 9 quindi niente decisionialmente troppo vantaggioso alle spalle prestazione ovviamente regolare speriamo a questo punto beh qua hanno confermato i propri tempi certo hanno spinto molto di più di quanto nelle qualterie di quanto avessero fatto Jacobs nella sua gara maschile di conseguenza nulla toglie che diciamo prestazioni migliore le possiamo vedere rispetto alle batterie di qualificazione nella gara maschile rispetto di quanto è successo nella comproparte femminile siamo nel secondo turno di lanci qua allora quindi il record italiano la Tosso non l'ha fatto comunque ah 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 Alberto scusami sei ad Alborg incredibile sono tutti internazionali qua io bene poi magari ci racconterai un po' di più quando avremo il tempo in una live cosa succede dalle tue parti non credo che abbia rallentato volutamente nell'ultima parte Ermondo certo non aveva non ha mantenuto al massimo l'intensità forse l'assenza di un avversario davanti gli ha impedito di mantenere quella carica agonistica fino all'ultimo istante di gara ma ecco alla fine il tempo finale sì un decimo forse un decimo non era forse la differenza non ha giustificato come dici tu un record italiano perso forse penso di più che sarebbe stata dalle parti leggermente sotto il tempo di qualificazione poi facendo tutto il gioco dei sei demà quindi con un vento leggermente più a favore con un un treno insomma con età anche nella finale probabilmente sì chi avrebbe potuto avvicinarsi di più al al record italiano forse l'avrebbe anche realizzato però non non vedo tanta discriminazione in questo risultato che comunque il suo questa è comunque la sua miglior gara outdoor fino a questo momento è inizio stagione purtroppo errore nel peso maschile e lancio nullo quindi è ancora inizio stagione c'è la possibilità di fare grandissime cose e si pone con questo piazzamento come grandissima contendente per una medaglia campionata europea nei 100 metri maschili e femminili quindi non sarei così così insoddisfatto del risultato e magari ce la sentiamo tra un attimo ma la finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs arriva adesso quindi ho detto 985 secondo me 985 non ho letto molti dei vostri commenti a riguardo vediamo il vento è una bava dice guarda le commenti a dare in tv 0-9 è una bava di vento alla fine non è che sia tutto questo vento l'influenza infatti è nell'ordine dei centesimi Vico Sisse Jacobs Mudian Selage tra i partenti di questa gara e poi c'è Kituro Ali in corsia numero 6 quindi 100 metri uomini gli occhi sono tutti per Marcel Jacobs in corsia numero 5 c'è Momadou Fall per la Francia quindi due italiani due francesi poi Sri Lanka e Sisse ma sia Sisse che Mudian Selage sono degli abitué di questa gara quindi hanno partecipato a questo meeting per almeno due anni consecutivi sono molto evidentemente contenti del clima che si respira qua dell'agonismo e dei risultati che è una pista così veloce accompagnata da quella bava di vento che dicevate comunque un vento intorno a 1.0 a favore riescono a darti e quindi presentano adesso la finale dei 100 metri maschili 9.90 dice On Fire 9.90 credo che sia Milan On Fire 9.90 Lupo Ellison ma forse ha tolto On Fire per scaramanzia 9.79 secondo Alex Nicolas e 9.84 secondo Lee Michael stiamo a vedere incredibile ma vero dice il mondo i 100 possono diventare come la marcia per l'Italia sì con tutto che il livello mediatico che accompagna una grande posizione di 100 metri è ancora superiore Marcel Jacobs la corsia centrale sua grande convinzione non lo spaventa certo qua il meeting di Savona ma sa che se deve continuare la sua marcia trionfale verso risultati prestazioni record vittorie allora Savona è una tappa importante Mudi Janselage che ha migliorato tantissimo proprio qua a Savona portandosi vicino alla barriera dei 10 secondi Netti così come Artur Sissè come vi ho detto Mamma Dufal e poi Kituro Ali Kituro Ali che ha fatto una buona prestazione discretissima ottima prestazione 10.40 che vedete qua personal best per uno 0.1 di vento a favore rimane ma qua la speranza è appunto che riesca con il vento appena sotto il limite a confermare quanto fate vedere in batteria 9.82 seconda Andrea Colombo ma stiamo a vedere quindi Vico si si Jacobs Budi Janselage Fal e Dali qua pronti al via Jacobs visualizza ormai si è fatto la sua il suo rituale prima della partenza telecamere per lui pubblico assepato anche dal retro di quella di quella palizzata e quindi è proprio l'ultimo a posizionarsi uno degli ultimi siamo tutti qui ad aspettare lui partiti buona partenza di Jacobs era il momento di spingere quel lanciato che non c'è stato nelle qualificazioni e sembra avere un pochino più problemi del previsto attenzione attenzione ha rischiato un po' di più 10.05 in finale questo è questo non è atteso questo non era atteso ha fatto molto più fatica di quanto mi sarei aspettato la partenza non è stata male confrontata a un sisse che comunque era da quelle parti anche Ale è andato piuttosto bene ma poi qua dove mi aspettavo un super lanciato ha fatto molta più fatica di quanto mi aspettassi vediamo se sto punto ritengo che abbia voluto vincere sì con uno sforzo relativamente contenuto guardate quanto si impendono di più ad esempio gli altri ma un Jacobs con uno sforzo contenuto non me lo aspettavo certo 10.05 di conseguenza ora stiamo a vedere cosa è successo al vento di conseguenza la sfida con Coleman Coleman è da quelle parti non è straripante come mi sarei aspettato il Jacobs di Savona 2022 10.04 risultato ufficiale peccato peccato ora aspetto un'intervista voglio sapere le sue sensazioni voglio decifrare il motivo di questa prestazione non è contento come non è contento come sarebbe potuto essere questo questo è inatteso questo è inatteso uff allora a sto punto oserei dire che il virus che l'ha colpito in Kenya ha pagato il conto ben più di quanto avesse lasciato trapelare nelle dichiarazioni dei giorni scorsi però però diecinetti nelle qualificazioni magari il vento ci può dare qualche informazione in più allora risultati ufficiali dei 100 metri uomini sì eccoli ve li faccio vedere poi appena appena parla appena parla ve lo faccio sentire anche eccolo subito sì sì esatto ho fatto un po' di fatica pensavo di correre meglio rispetto alla batteria avevo fatto un po' di fatica mi manca solo un po' di brillantezza pensavo di averla di più pensavo che questa settimana senza allenamento le poteva aiutare un po' a far salire la condizione in realtà manca ancora un po' di lavoro però è la prima dell'anno abbiamo tempo per arrivare a mondiali che è l'obiettivo l'obiettivo principale pensavo di correre un po' un po' meglio sinceramente anche a livello tecnico proprio cioè mi sono sentito non avanzare come al solito tante cose che però dobbiamo lavorare e guardare insieme al coach però abbiamo rotto il ghiaccio la prima gara almeno l'abbiamo portata a casa non come la scorsa volta che neanche sono riuscito a scendere in pista e via ora si cerca di migliorare sempre di più certo Nairobi col seno di voi non ci voleva proprio sì no esatto diciamo che quella settimana non è stata proprio la migliore della mia vita però non siamo qua comunque a trovare scuse io ho voluto gareggiare perché sapevo che che potevo gareggiare ero convinto di fare molto meglio rispetto a questo che ho fatto adesso devo rivalutare un po' quello che è successo a livello tecnico non sono riuscito soprattutto nella seconda parte di gara a tirare fuori quello che sono io di solito però abbiamo tempo abbiamo tempo ti tengo solo un attimo in più per ricordare ecco tutti gli impegni che culmineranno con il mondiale ma c'è un altro appuntamento comunque le nostre analisi più o meno è stata confermata dalle parole di Marcel con i più forti sui centri esattamente sarà una bellissima gara forse è più difficile di quello che poi sarà il mondiale perché ci sono veramente tutti i migliori poi gli americani ne verranno solo tre lì ci sono tutti i sette migliori sarà una prima gara un bel banco di prova però il nostro obiettivo rimane comunque i mondiali quando bisogna portare un metallo a casa cerchiamo di tirare fuori sempre qualcosa in più Jacobs è sempre lo stesso è meglio di prima dopo l'Orolimpio quindi per gli inglesi ho tradizionato quello che Jacobs ha detto as soon as he stops ho lavorato ancora di più di prima adesso essere campione olimpico vuol dire che hai sempre gli occhi puntati addosso tutti che vogliono cercare di batterti quindi bisogna cercare di mettere sempre le spalle avanti ho lavorato duramente per questo ma sono sempre lo stesso di prima grazie grazie a voi so che vi aspettavate qualcosa di meglio ma arriverà grazie grazie a voi ok for the english guys let's start from the end they said that you know that you expected something more from him but he's sure that something better will arrive she doesn't know why he didn't perform well in the final of course there was a problem of Nairobi of the virus that he had so he couldn't compete in Kenya but if he was here so since he went here and since he wanted to compete he thought that could have done better than he did and he's especially not sure why he wasn't able to put his best on track especially on the final part of the race where he usually shines with respect to the others so actually he doesn't have answers to why he's had such problems and of course then he talked also about the competition in the Diamond League in Eugene that could be even more like difficult than the world champs because of the fact that more US athletes can compete than in the world champs but yeah well not the best of Marcel Jacobs and yeah I think that he needs to think about that dovrà pensare rispetto a queste cose but yeah let's wait some weeks and some results before we can like have an idea and see if this is just one misstep in his 2022 or something more but diciamolo comunque che ha vinto eh comunque anyway he won and with a time that's similar to Coleman and with a wind that's not too much and not such a tailwind quindi attenzione a Marcel Jacobs e spero che gli inglesi gli english speaking abbiano capito qualcosa ragazzi questa è la situazione poi c'è qualcosa che mi sono dimenticato non sono un traduttore quindi si Abu yeah I think that Abu comunque che succede qua nei commenti 957 per me la problematica nella roba è lasciato qualche straccico esattamente tanto c'è Zenvier nel peso Zenvier nel peso allora intanto vi leggo però sentiamo vediamo cosa succede anche nella gara del getto del peso allora più 0-3 di vento dicevate e è passato un po' sotto traccia però il personale per Kitu Roali è arrivato un tempo sotto i 10 secondi e 20 10-18 dice Erika Arfa molto buono too much hype for nothing mettiamola così meglio non essere al massimo adesso per avere il picco di condizione il mese prossimo ovviamente Kelly ha sofferto dice lupo sì a Nairobi l'ultima settimana due settimane fa se non sbaglio sarà pronto ad Oregon stiamo stiamo a sentire intanto stiamo a vedere intanto intervistano credo uno dei pezzi grossi dell'organizzazione niente niente concentriamoci sul peso appunto abbiamo visto Veer faccio vedere tra poco anche il risultato che si aggiorna nella classifica di gara adesso Nick Ponzio che sembra da questa inquadratura è molto difficile da valutare sembra che abbia lanciato un pochino troppo in alto nella sua nella sua parabola vediamo il risultato per classifica quindi getto del peso maschile con attualmente in testa appunto Ponzio che si è essato fino ai 21 e 12 e poi come avete visto adesso ha realizzato pure un nullo siamo quasi in fondo alla gara Zanvier secondo con 20 e 98 Storl terzo con 19 e 96 al quarto posto abbiamo Bianchetti con 19 e 88 sta per lanciare Leonardo Fabri che per ora ha soltanto 19 e 54 al primo tentativo attenzione a Fabri quindi ha bisogno di fare un grande risultato ha soltanto due lanci a disposizione per poter raggiungere questo obiettivo e adesso devo sentire chi sta parlando scusate un attimo accendo l'audio niente niente ci siamo tornati su Fabri devo ovviamente difficile governare tutto questo macchinario forza Fabrino sembra che gli sia sfuggito un pochino di mano il peso nel lancio qua la parabola si è stata fin troppo bassa dovrebbe aver convalidato la misura vediamo cosa è successo qua in pedana no un altro nullo un altro nullo non riesce proprio a trovare la quadra e si rammarica di questo avete visto come aveva fatto questo gesto con la mano è un peccato sarebbe stato forse dalle parti dei 20 metri un pochino più vicino a questa fettuccia che è un po' lo standard dell'alto livello nel peso maschile non che garantisca medaglia ma quantomeno un 20 metri per un campione dovrebbe essere un pochino qualcosa di qualcosa di abituale errore anche per Sebastiano Bianchietti quindi questa gara sta sfilando via velocissima abbiamo una decina di lanci alla conclusione Federic Dagé attualmente in quinta posizione è il prossimo a scendere in pedana per lui 19,77 e dopo di lui avremo David Storr che inizierà di già il no ancora nel quinto turno che sarà seguito e sarà seguito da Veer e da Ponzo sì c'è stata l'inversione dopo più di tre turni di gara ma stanno tutti sbagliando quindi insomma non sto portando bene a questi atleti del peso nel seguire nel dettaglio la loro gara vediamo se ci sono altri commenti e poi torniamo su di loro quando avremo i più forti i più forti in pedana e sì questa inquadratura è veramente problematica perché ora non hanno investito molto sulla copertura televisiva nonostante questo meeting sia cresciuto a livello di risultati c'è una sola postazione nel quale inquadrano qualsiasi cosa e quindi per forza di cose sono costretti a fare dei compromessi il getto del peso è dalle parti della partenza dei 100 metri così come la partenza dei centri è piuttosto problematica lo stesso per il peso comunque come distanza e angolatura siamo lì almeno nei 100 metri riesci ad avere una situazione un po' più chiara man mano che ti avvicini al traguardo qua non è proprio possibile a sto punto forse è meglio se rimangono ad inquadrare questa inquadratura questo sì sarebbe stato un pochino meglio oppure a sto punto piccolo suggerimento mettete mettete un tizio con una telecamera a mano che riprenda insomma di laterale il lancio se non riescono ad avere una postazione fissa quantomeno ci vadano con una telecamera comunque Veer non è una gara che è decollata molto sulle prestazioni l'unico che riesce a fare grandi cose perché insomma in un momento d'oro è Nick Ponzio sempre sopra i 21 metri questo lancio di Veer comunque ci è arrivato vicino 20 e 98 e adesso Nick Ponzio appunto guida questa gara di peso e da soltanto dopo questo quinto turno un altro turno di lanci per tutti e sei gli atleti coinvolti prima di mettere l'ipoteca su questa gara ecco Ponzio ancora dovrebbe essere valido il lancio sì buona tecnica atleta molto tarchiato basso e massicce quindi deve puntare sulla velocità di rotazione per scagliare più lontano possibile il suo attrezzo il risultato di Ponzio è 21 e 0 1 un'altra volta sopra i 21 metri quindi in testa in testa conferma il 21 e 12 che lo piazza attualmente in prima posizione sì un drone addirittura no ma guarda siccome c'è il tizio con la telecamera fissa davanti lo possono spostare in laterale possono fare qualcosa insomma con un telefonino signori siamo nell'era tecnologica si può migliorare la situazione l'ultimo turno di lanci del peso comincia in questo momento con quello che potrebbe essere il miglior risultato di Ferrara perché siamo dalle parti dei 20 metri Ferrara ha fatto finora a 19.80 vediamo cosa succede credo che stiano aspettando la fine di questa gara prima di avere i 400 metri maschili e femminili 400 ostacoli maschili e femminili e gli 800 metri femminili a concludere l'esperienza dell'undicesimo meeting di Savona niente da fare per Ferrara 19.44 quest'ultimo lancio e adesso ci guardiamo Leonardo Fabri una gara finora da incubo 19.54 più un tentativo e tanti nulli l'ultimo lancio che abbiamo visto era molto molto precario di equilibrio e siamo da quelle parti e mi sa che è nullo anche questo quindi forse la peggiore gara di Leonardo Fabri degli ultimi 5 anni se non se non di più me lo vado a vedere è un peccato vedere infrangersi anche in questa gara il sogno agonistico di Leonardo che sta tanti anni ormai che non riesce ad raggiungere il suo livello che sono sicuro non è il 21.99 che ha fatto vedere due anni fa è più in alto è più in alto ce la puoi fare dai De Fabrino sei stato anche l'ultimo a venire qua nel canale ad essere intervistato prima della blackout mio insomma di assenza di video a fine 2021 forza che ti puoi riprendere vado a vedermi la carriera di Leonardo Fabri per rendermi conto quando è stata l'ultima volta che ha lanciato che ha lanciato così poco nel peso peccato veramente lui ha una trentina di prestazioni sopra 20 metri e il suo attuale 19.54 ecco è dalle parti di quanto faceva no purtroppo 19.53 l'ha fatto pure nel 2021 ma sono prestazioni da 2017 2018 insomma prima dell'esplosione che ha avuto è un peccato che sia che sia così lontano appunto dal 21.99 realizzato il 30 agosto 2020 o anche solo comunque il 21.71 di Firenze che a guardare il peso outdoor è comunque la seconda migliore prestazione di sempre quindi diciamo se c'è una caratteristica del Fabri di quest'ultimo periodo è la discontinuità ed è una delle cose invece sul quale puntava di più il suo allenatore questo è veramente un peccato ma comunque dalla delusione di Fabri passiamo agli ultimissimi lanci di questa gara tocca adesso alla Francia per mettere la parola fine la gara di Frederic Dachet attualmente in posizione numero 5 19.77 per ora il peso cade cade diciamo da quelle parti comunque è una prestazione nulla pure questa molti atleti decide lui di annullare non riesco a capire viene dato come nullo stiamo a vedere se mi sono confuso io viene dato come nullo quindi l'unica prestazione valida di Dachet è il 19.77 con il quale ha iniziato la gara ma ora gli ultimi 4 atleti si parte con David Storr l'unico l'ultimo di quelli rimasti a non essere ancora salito sopra 20 metri vi ho detto anche lui della sua crisi l'unico che tra l'altro lancia con la tecnica trasolatoria ancora è da quelle parti da quelle parti spero che riesca ad aggiungere appunto il 2 0 i 20 metri è nulla anche questo ragazzi poi non riesco a beccare nulli con questo minimo schermo con questa inquadratura così distante e niente da fare finisce così anche la gara di Storr con un unico lancio valido 19.96 Bianchietti ha già lanciato 20.02 3 ce lo siamo persi Bianchietti mi dispiace non avervi commentato avete visto voi ma io non ho commentato il suo salire sopra i 20 metri e di ripiazzarsi quindi in terza posizione questo credo che sia l'atleta che sorriderà di più al termine della gara adesso Zenvir per rintuzzare il distacco nei confronti di Fabri e dovrebbe essere un buon lancio ed è valido esatto è valido forse ce l'ha fatta stiamo a vedere sembra essere più convinto essere stato più convinto adesso degli ultimi tentativi ma ma pur con 21.05 quindi Vir è salito sopra i 21 metri ma per pochi centimetri 7 per la precisione la vittoria va a Nick Ponzio che è ancora un ultimo tentativo mentre vado a vedermi il personale di Bianchetti che è da quelle parti e Bianchetti ha 20 e 17 di personale e praticamente c'è arrivato vicinissimo in questa gara che lo vede in terza posizione ha lanciato adesso Nick Ponzio il lancio è buono dovrebbe essere inferiore però a quelli precedenti e quindi appena abbiamo la certezza del risultato Ponzio ha fatto 21.12 al secondo tentativo 21.01 al quinto e in quest'ultimo tentativo arriva il mentre arriva intanto anche la foto con con Vir 21.06 molto regolare Nick Ponzio è da quelle parti quindi siamo veramente stiamo veramente parlando di centimetri è l'attleta che più di tutte si è meritato questa gara avrebbe vinto con avrebbe vinto con due dei sei lanci che ha realizzato perché il secondo piazzamento quello di Vir è 21.05 e poi come vi ho detto Bianchetti che ha fatto un colpo di reni per piazzarsi in terza posizione Storr quarto peccato ancora peccato per fabbri continuerò a ripeterlo allo sfinimento ma questo appunto è quello che abbiamo visto nel getto del peso maschile se non altro possiamo dire che Ponzio e Vir valgono ampiamente 21 metri sono una specie di macchina da guerra insomma possiamo dirla una fabbrica la fabbrica dei 21 metri siamo in un'epoca nel quale per fare grandissime cose bisogna arrivare dalle parti dei 22 un po' peccato quindi che diciamo il momento sia proficosi per gli azzurri ma abbiano tanto tanto da pedalare per tenere il passo con il crauser di sorta però comunque a livello europeo abbiamo visto fanno grandissime cose si comportano benissimo vincono i campionati europei a squadra e quindi ci teniamo questi due grandi talenti sperando che fabbri batta un colpo presto quindi 400 metri ostacoli uomini la prossima gara che partirà andiamo a vedere anche quelli che sono gli iscritti eccoci eccoci qua Tayana per la Svizzera Santos per la Repubblica Dominicana Ben Cosme e Lambrugui per l'Italia insieme a Thomas Barr per l'Irlanda ora non so perché non si vede bene la differenza tra la bandiera italiana e quella irlandese nella mia nella mia grafica e Chris McAllister per l'Inghilterra per il Regno Unito anzi in corsia numero 6 questa gara è importante perché Ben Cosme e Lambrugui hanno fatto valere i loro doti soprattutto a cavallo del 2017-2018 come i migliori ostacolisti sulla distanza quindi per l'Italia poi sono arrivati altri sono arrivati i Sibillo di turno hanno perso un pochino di forma Lambrugui e Leon Ben Cosme e Leon e di conseguenza questa questa gara è un'ottima occasione per tornare di nuovo sotto la barriera dei 50 secondi speriamo che ce la facciano Thomas Barr è il più accreditato e sarà un'ottima lepre per Lambrugui e Leon che si trovano esattamente nelle corsie interne sì ACF questo è un credo questo punto il secondo metico più importante d'Italia stiamo a vedere cosa succederà di solito Padova si prende delle start list più blasonate ma per quanto riguarda i risultati delle singole gare qua hanno fatto vedere cose incredibili soprattutto lo scorso anno con le cose tirando nei 100 metri ed altro quindi 400 metri ostacoli prima parte di gara ha finito la prima curva Tajana Santos Ben Cosme Lambrugui Barry McAllister tra questi sembra che sia partito molto bene Lambrugui ma attenzione anche a Santos in secorsia numero 2 Lambrugui che adesso deve difendersi nella seconda parte di gara all'Incosme è partito un po' più tranquillo e quindi potrebbe tornare sotto nella seconda parte ma Lambrugui è solito comunque avere una gran tenuta nel terreno finale quindi telecamere per lui Thomas Barra invece è un pochino più indietro adesso Lambrugui è in testa all'interno Ben Cosme di Leon che ritorna sotto una bella sfida tutta azzurra ma sembra essersi spenta un po' l'azione di Lambrugui che continua a resistere no Lambrugui alla meglio sulla tenuta su Ben Cosme di Leon che aveva tentato l'attacco Lambrugui vince e Lambrugui scende per la prima volta dopo tanto tempo sotto i 50 secondi 49.04 gran tempo da parte di Lambrugui una gara coraggiosa una gara che lo ha visto anche di testa resistere nella seconda parte quando sembrava Ben Cosme avesse le gambe per poterlo riprendere al netto di una partenza un pochino più tranquilla stiamo a vedere i replay della gara niente da fare per Thomas Barra in corso numero 5 che non è mai stato della partita Lambrugui se lo ha mangiato alla fine della prima curva e tra questi altri era partito molto bene all'interno rispetto a Ben Cosme Juander Santos ma poi è stato superato appunto dall'azzurro vediamo qua nell'ultima parte di gara al termine dell'ultima curva abbiamo Lambrugui che è praticamente pochi centimetri avanti a Ben Cosme che fino all'ultimo ostacolo era lì poi lo sprint finale guardate la grinta della tetta della Riccardi di Milano che mette molti centimetri e poi metri tra lui e il compagno di nazionale di conseguenza si va a prendere la vittoria sotto 50 secondi se non sbaglio il distacco non è poi così elevato da dire che insomma da precludere anche a Ben Cosme il tempo sotto 50 stiamo a vedere stiamo a vedere i risultati ufficiali appena riesco a raggiungerli questi i risultati ufficiali dei 400 metri ostacoli uomini Lambrugui 49.03 che è pure il record del meeting in seconda posizione Ben Cosme 49.29 più vicino di quanto mi sarei aspettato o almeno dalle immagini 49.53 anche per Bale che comunque si va a riprendere nell'ultima parte fino alla terza posizione Santos 50.35 McAllister 50.66 e Tajana 51 e 46 e questo è il photo finish che ci rivediamo qua non mi sembrano due decimi tra Lambrugui e Ben Cosme che palle che si raggiungano in tre secondi lo schermo quindi 400 metri ostacoli uomini il tempo di abbassare la quota degli ostacoli e andremo verso i 400 metri ostacoli donne e poi toglieranno gli ostacoli si fanno i 400 uomini 400 donne e 800 metri donne a concludere questo meeting di Savona tempo di leggere qualche commento mentre intanto metto anche la start list dei 400 metri donne con Lambrugui con tempi sotto i 48 secondi è chiamato a rispondere ecco ora Sibiro ha un grande dal suo punto di vista un grande vantaggio rispetto agli ostacolisti puri quello di poter rendere benissimo anche nella gara individuale questo vuol dire che ecco si può può orchestrare la sua stagione non solo in base ai risultati nei 400 ostacoli e questo dovrebbe anche solo dal punto di vista mentale permettergli di avere un leggero vantaggio rispetto rispetto ai puristi perché ecco 400 ostacoli gara complessa per entrare in forma e per fare grandi cose anche in su altre distanze ecco forse posso fare quelle energie mentali che poi gli poteranno permettere di rendere il massimo al momento in cui è chiamato all'azione nella sua gara regina anche lui un po' vale il discorso che ho fatto per il peso maschile cioè in un momento nel quale abbiamo dei mostri capaci di scendere sotto i 46 secondi quindi certo a livello mondiale è difficile a livello europeo comunque Quorum è uno stacanovista che reggia molto molto spesso può darsi che se lo trovi treppiedi anche a campionati europei ma ciò non trovi che possa comunque puntare a una medaglia e come diceva appunto il mondo bisogna vedere quanto sarà concretizzato del salto di qualità realizzato a partire dello scorso anno perché anche solo replicare i tempi del 2021 ci consegnerebbe un grande atleta se il trend positivo continua se riesce ad arrivare sul 47 secondi basso a questo punto abbiamo un tetra da medaglia forse forse non solo in un contesto europeo ma anche in un contesto internazionale quindi ditte incruciate per Sibilio che come elemento staffetta è uno delle carte jolly che si aggiungerà alla nuova leva noi abbiamo tanti tanti atleti di spessore nel giro di pista non a caso siamo stati campioni mondiali juniores qualche anno fa appunto con Scotti e Sibilio ma quindi ricordiamoci Benati che tra poco vedremo gareggiare pronto anche lui a scendere nei 400 piani sotto i 46 secondi ricordiamoci Scotti quindi Scotti Benati Sibilio e tra tanti ora vediamo se Re Terrabotta ancora qualche anno ce lo ce lo avremo disponibile però abbiamo ancora insomma anche altri tanti sostituti vediamo cosa verrà fuori nelle staffette certo non siamo a livelli di 100 metri della 4% però il futuro sembra essere piuttosto rosio anche su questa disciplina presentano i 400 ostacoli femminili i colomi avete visto in bassa a destra fino a bassa a sinistra fino a un attimo fa non è stato un anno eccezionale per Linda Olivieri la stagione 2021 bisogna anche ritrovare un po' di continuità sprazzi di grandissime prestazioni invece per Ayomide Folorunso che però purtroppo ecco non è riuscita ad imprimere il 100% del suo livello in alcuni eventi importanti che hanno quindi determinato una stagione un pochino diciamo agrodolce la speranza è che da agrodolce la stagione diventi dolce al 100% in questo 2022 e la prima tappa è Savona 2022 partite in questo momento Muraro Sartori Folorunso Olivieri Risicova e Marchiando tutte italiane tranne la Risicova che difende i colori dell'Ucraina ed è proprio l'Ucraina che ha le forze le ali ai piedi per colpa della situazione in cui versa il suo paese che sta guidando le danze poco prima di metà gara nettamente in testa seguita da una buona Linda Olivieri e ancora non si vede l'omide Folorunso eccola che spunta nella sua rimonta nella seconda parte di gara Risicova a 52,96 da credito quindi la migliore tra le iscritte ed ecco Folorunso che nella seconda parte di gara è venuta su benissimo ed è pronta a lottare anzi l'ha già superata all'ingresso del retellino finale attenzione perché potrebbe venire un grande risultato da parte di Folorunso purtroppo in coccia addirittura rompe l'ostacolo il penultimo di gara vediamo se riesce sì a sopravvivere nell'ultimo passaggio ma è veramente stanca forse forse mette a rischio lo suo vittorio e niente comunque ce la fa grande e umide una gara molto coraggiosa nel quale ha dato il 100% nella seconda parte poi anche rischiato purtroppo quest'ultimo retellino in cui era stanchissima ha precluso un grande risultato sì ha fatto un 55-30 comunque buono ma probabilmente veleggiava almeno per quanto riguarda la previsione nell'ultima parte di gara tolto quel retellino intorno di proiezione ai 53 secondi 53 secondi basso quindi niente a umide comunque complimenti per la grinta complimenti per aver vinto quello che in fin dei conti è quasi un campionato italiano ora sì manca mancano atlete c'era comunque Leonardo Amaracchiando che se non sbaglio è campionessa italiana in carica e quindi poi mi correggete se magari sbaglio e quindi comunque qualcosa di interessante è venuto fuori da questa gara non con i tempi che speravo comunque comunque io mi la grinta ce la mette sempre sì Andy Jacobs won although with 10.05 in the interview Jacobs said that didn't really understand why he wasn't able to perform so well in the final in the final he thought that he could at least improve with respect to the qualification but in fact it wasn't and it wasn't effective especially in the second part of the race questo è un po' il problema ciao Hermondo è stato un piacere averti mancano ancorché tre gare alla conclusione magari ti recuperi questa diretta nella indifferita è possibile farlo questo video rimane su youtube 10.04 confermato grazie MG 1004 because I mean the times get usually corrected one sense less after they get official perfetto perfetto grazie mille grazie mille per la correzione Hermondo comunque sono contento di come sta andando questo primo assaggio della stagione estiva anche dal punto di vista del mio commento la prossima gara che ci aspetta è quella dei 400 metri donne ma se abbiamo i risultati ufficiali dei 400 metri ostacoli vi li vado a leggere quindi avevo detto di Lambrugui nella gara maschile 49.03 grande risultato ritorna ai livelli di qualche anno fa ed è un ottimo un ottimo segnale da parte sua 400 metri ostacoli donne questi ai omide da parte di Rebecca Sartori quindi alle spalle delle migliori azzurre comunque il movimento schiorente e cadono anche i primati Anna Resikova che nella seconda parte di gara ha nettamente sottoperformato quindi sono andata un pochino in crisi rispetto rispetto alla prima ma è andata in crisi anche e omide ma troppo tardi per essere ripresa e quindi per giudicare la sua vittoria andiamo alla presentazione dei 400 metri donne da una gara con tutte italiane tranne una a una gara con tutte straniere tranne un'italiana vi ricevo di Raffaella Lucudo il suo accredito è 52 72 in realtà non rispecca quello che ha realizzato negli ultimi negli ultimi negli ultimi appuntamenti e vado a cercare la storia di Lucudo Raffaella è andata fortissimo soprattutto a cavallo del 2018 con il suo personale di 52 38 infatti l'accredito che vedete qua si riferisce ah sì al 17 giugno 2021 quindi in effetti sì sono meno di 12 mesi da quando è realizzato questo comunque ottimo 52 ma purtroppo è stato il miglior risultato della sua stagione che ha concluso con un non lusinghiero 53 e 70 66 a settembre quindi insomma rispetto al 2018 per lei come per altri atleti della nostra nazionale una maggiore discontinuità che si spera possa essere un pochino tamponata adesso io credo che abbiano tolto la diretta io credo che abbiano tolto la diretta ragazzi adesso si va in radiocronaca questa Rai questa Rai mi ha tradito così ora vado a cercarmi e ditemi voi se lo sapete se c'è un altro modo di vederci le gare altrimenti dobbiamo per forza di cose commentarla in maniera in maniera un po' triste quest'ultima parte di meeting era interessato soprattutto ai risultati dei 400 metri maschili e cavolo nada nada ragazzi che bello però poi almeno possiamo avere un po' più tempo per tracciare le le somme di questo di questo evento troviamo il bello di ogni cosa siamo positivi finale dei 400 metri di donne che dobbiamo per forza di cose seguirci così grazie mamma Rai il minimo per gli europei è 19,50 Simone grazie per l'informazione importante sì l'Hambruggie era sicuramente super contento di questa presentazione il ritorno di l'Hambruggie una delle notizie più belle di questo di questo meeting che per i grandi risultati sì certo anche nei 100 metri abbiamo avuto modo di sorridere perché i giovani si sono fatti valere sia ad Osso che Ali hanno fatto primati notevolissimi penso che anche lì siamo dalle parti dei mini europei sono ci sarà da sudare per andare per andare agli europei e ai mondiali nei 100 metri soprattutto al maschile dove tra Jacobs Ali e Tortura non so se Tortura punterà esclusivamente ai 200 però però appunto abbiamo un movimento fiorente non è stato Jacobs a trainare gli azzurri per grandi risultati ma appunto come vi ho detto i giovani Dossò e Ali hanno fatto hanno fatto il loro sfruttando la velocità della pista di Savona e avvicinando i 10 secondi per Ali e il record italiano femminile per Zanab Dossò quindi vediamo se abbiamo qualcosa dai risultati dei 400 metri donne poveri meno 400 metri uomini tra una quindicina di minuti concludiamo la nostra avventura rimarranno in 3 o 4 a seguire questo meeting di Savona però il mio piano era appunto di arrivare fino in fondo e fino in fondo arriviamo tolgo intanto la pallannoto maschile che non ci interessa più tra le scritte la più blasonata nella gara dei 400 metri femminili è Amma Pipi per la Gran Bretagna intanto scusatemi ciao Falvi Falvi Zero intanto scusatemi quello che posso fare è quantomeno mettere la chat in questa in questa in questa schermata a meno che anche voi possiate vederla e si fa così vediamo se ci riesco perfetto eh ma credo che posto siamo 120 è incredibile e allora e allora sono molto contento io non ho informazioni però mi basavo sulle scorse esperienze risultati dei 400 metri donne finalmente Lucudo è arrivata in quarta posizione purtroppo la vittoria è andata a Fiordalisa Cofil per la Repubblica Dominicana che ha battuto in questo caso un po' sorpresa ma Pipi che in quanto ha primato personale addirittura un secondo di vantaggio il risultato è 51 e 36 un fior di personal best da parte della vincitrice che appunto relega la Britannica al secondo posto in 52 e 19 terza Socna Lacoste per la Francia in 52 e 81 e purtroppo il buon risultato di Lucudo beh alla fine qualcosina di bello è arrivato perché 53 e 11 facevo vedere quella che era la progressione di Raffaella nell'ultima parte di stagione lo scorso anno era dalle parti del 53 e 6 faceva fatica a scendere sul 53 e basso e qua invece subito alla prima gara della stagione ci è arrivata l'anno scorso Savona doveva essere tipo questa ecco io penso che questo 53 e 58 rappresenti il tempo di Lucudo a Savona lo scorso anno e quindi se facciamo il confronto diretto abbiamo qualche decimo di miglioramento sono credo penso che si ritenga relativamente soddisfatta ovviamente non abbiamo interviste abbiamo i ragazzi della palla a nuoto non possiamo sapere se non molto più tardi quello che avrà pensato del suo risultato comunque ripeto un quarto posto 53 e 11 ci può stare per non Lucudo che ha bisogno se non altro di trovare un pochino più di continuità nei suoi risultati poi Shida Leni e Medina Anabei la prossima gara che mi interessa come vi ho detto Conte Cuciano Pivotto Benati Lopez Ferrero per il Messico e Sanders per la Germania ci sono due cose che catturano la mia attenzione la prima cosa riuscirà a fare Catalin Tecuciano lui grandissimo autocentista è diventato italiano nello scorso anno perché ha vissuto tantissimo in Italia origini rumene ha avuto bisogno di aspettare una vita prima di coronare il suo sogno avrebbe potuto vestire la maglia della sua vecchia nazionale andare alle Olimpiadi ha rinunciato alle Olimpiadi perché voleva andarci con la maglia dell'Italia e ha dovuto appunto aspettare la naturalizzazione quindi tra l'altro ha interagito in una delle primissime live che ho fatto con ospiti quindi mi fa piacere trovarlo così in alto dopo dopo un po' di anni e poi c'è l'incognita Lorenzo Benati che ha 46.01 dello scorso anno voglio vedere se riesce a scendere per la prima volta sotto i 46 secondi tra le possibili carte che possiamo giocarci per i 400 metri in staffetta c'è Brian Lopez quindi per la 4 più 400 c'è Brian Lopez classe 97 un pochino più adulto dei ragazzini con i quali è costretto a misurarsi che comunque ha un 46 di personale che dà il meglio di sé appunto negli eventi negli eventi di squadra appunto la staffetta e stiamo a vedere se quantomeno ritoccando questo personale potrà averla meglio su una super super concorrenza perché i 400 metri hanno con Sibilio Scotti Benati insomma se Ticociano diventa forte tante tante carte da pescare per poter fare una 4 per 400 quindi quanto sono gli europei sapete una cosa questo è il momento di vedere gli appuntamenti internazionali grazie mille per il suggerimento perché la risposta è non lo so e devo cercarlo i campionati europei saranno tra l'altro a Monaco di Baviera se non sbaglio eccoli qua 15-21 agosto campionati europei 15-21 agosto benissimo ho intenzione di andarci ora non lo so è proprio il giorno del mio compleanno non so se andare agli europei durante il mio compleanno oppure se avrò la possibilità di tornare in Italia staremo staremo a vedere comunque sarebbe interessante vivere i campionati europei almeno una giornata ecco dalla pista perché abbiamo un sacco di atleti che potranno fare grandissime cose non solo i super campioni che abbiamo visto a Tokyo ma tante 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 tanti locotenenti diciamo che in un contesto europeo pensando a Sibilio pensando ora anche Kripp beh Kripp è una grandissima concorrenza ma ricordiamoci quello che ha fatto Kripp la scorsa settimana alla notte dei 10.000 primati personali night of 10.000 personal best insomma grandi risultati che possono essere di buon biatico per una medaglia di qualsiasi colore a un campionato europeo quindi ci possiamo divertire moltissimo sia in un contesto super forte internazionale nel i campionati mondiali insieme con Jacobs e con i marciatori credo Costano che sta comunque andando fortissimo ma anche in un contesto europeo con Krippa Faniel appunto tanti tanti ragazzi Sibilio che possono andare forte addosso Ali insomma l'Atletica Italiana sta passando veramente un buon momento i campionati mondiali invece saranno dal esattamente come se abbiamo ecco dal 15 al 24 luglio 2022 quindi esattamente un mese prima dei campionati europei campionati europei dal 15 luglio in poi un programma ridotto di 6 giorni campionati mondiali 15 agosto in poi scusatemi programma di 6 giorni campionati mondiali dal 15 luglio in poi dal 15 al 24 luglio 2022 bene ve l'ho tirata fin troppo a lungo abbiamo i risultati dei 400 metri con benati terzo lo aspettavo più avanti vittoria di lopez su sanders benati pivotto ferreiro e techoceano che si aveva il problema della prima corsia ma mi aspettavo leggermente più avanti in classifica e adesso suspense perché ci sono i risultati 46-03 per lopez quindi primato personale è arrivato adesso certo non esce sotto i 46 comunque si è migliorato oh che bello dai grafica aiutami tu per una volta informatica non mi tradire 46-10 per ferreiro 46-19 per benati 4705 che se non altro è il primato personale è un buon tempo a livello italiano per catalin tecuceano pivotto prima aveva già fatto il primato personale con 46-61 e sanders che alla fine è arrivato quarto perché l'informatica non si era aggiornata correttamente ha fatto 46-40 quindi comunque è un peccato non avere immagini se non questa e qua si vede probabilmente quello che quello che è stato quello che è stato credo recupero da parte di Lopez che ha Brian Lopez ha un ha un buon retellino finale ma lo hanno più o meno tutti italiani mi immagino che questo Benati che vedete qua sia stato in grande spolvero nel retellino finale anche solo dalla posizione col quale la tagliata di traguardo può essere che ecco che pivotto invece fosse leggermente stanco tecuciano invece molto molto solido e composto può essere invece che questo 400 metri sia stata una prova per poi impegnarsi sulla doppia distanza e quindi aver corso in maniera così composta fin sul traguardo un 400 metri può dirla lunga sulle potenzialità di Benati di tecuciano scusate durante questa stagione sui 800 metri bene manca soltanto una gara e poi possiamo poi possiamo lasciarci 800 metri donne abbiamo tempo per parlare e discutere se avete argomenti di cui discutere sono super disponibile aspettando questi risultati possiamo anche passare da segna a quello che è successo finora ha detto di Ali e di Dossò nei 100 metri maschili e femminili ho detto comunque ricordiamoci abbiamo fatto vedere abbiamo visto buone cose anche nel peso maschile con Vir e Ponzio sempre sopra 21 metri con Vittorio Di Ponzio sempre più lo showman e purtroppo comunque la crisi di fabbrica continua con una prestazione ampiamente sotto i 20 metri poi tra i tanti risultati importanti purtroppo non abbiamo visto cose super dagli ostacoli sopra i nostri colori soprattutto nella gara femminile nei 100 ostacoli dico con Luminosa Boiolo che non anzica la partenza e di conseguenza perde quei metri fondamentali per vincere 400 ostacoli femminili con Folorunzo una buona gara non perfetta comunque con grande grinta 400 ostacoli maschili invece con un buonissimo Lamborghini che come avete detto ha segnato il minimo per i campionati europei e poi nel tripolo certo abbiamo visto buone prestazioni sopra i 14-50 ma non da parte di Azzurri con Cestionado che si ferma sotto i 14 e con Zanon che ha fatto purtroppo un cattivo risultato e poi abbiamo avuto anche i 200 metri certo maschili e femminili tra questi il risultato molto interessante è ovviamente quello di dare Caddari che nonostante non abbia vinto si è comportata molto bene è restata molto vicina alla vincitrice della competizione e la cosa ci fa ben sperare per il futuro dell'Azzurra sì insomma abbiamo visto qualcosa interessante non è stato un minting straripante come lo scorso anno non ci sono stati i record italiani ciao e grazie Daniele Lusi per la donazione dei 2 euro grazie Daniele sono anni che non mi donano soldi ora non è che siete costretti a farlo però sono contento proprio perché rappresenta un segnale che quello che sto facendo non sia poi così inutile cosa ne penso di Serena Troiani dice Monti 777 ecco quello che vedete al sinistro sono gli accreti di finora Troiani è certo tra queste l'atleta più in spolvero per quanto riguarda il contesto italiano tolta Elena Bellò che purtroppo non verrete presente non penso che facciano una super gara per quanto riguarda il passaggio al primo giro e quindi potrebbe essere problematico pensare problematico concepire un gran tempo ecco io penso che anche la più forte Angelica Sarna si accontenterà poi staremo a vedere di una prestazione intorno al 2.01 2.02 seguiranno le altre certo forse questo avvanteggerà più che altro gli atleti che hanno prestazioni e a crediti leggermente inferiore rispetto alle migliori quindi io mi immagino che Troiani faccia sotto i 2.05 non sotto i 2.04 ma che si porti dietro anche Vandi Montesi e soprattutto Federica Del Buono che sono anni che non fa un 800 metri su tempi che le competono questo 2.09 35 si riferisce allo scorso anno ma la di personale ha un personale migliore di tutte quelle che vedete tranne appunto che di Angelica Sarna per la Polonia dovremmo avere già risultati vediamo no c'è ancora la start list c'è ancora la start list quindi qualche istante e poi ci lasciamo con questi risultati la partenza è alle 18.40 quindi dovrebbero essere già in pista c'era abbastanza tempo per poter permettere ecco lo svolgimento del programma senza ritardi vediamo se c'è qualche altro commento primo giro 59 lupo ma tu riesci a vederlo perché io io mi sono mi sono arreso è un peccato perché altrimenti avrei potuto seguirla molto meglio la competizione grazie per averci aggiornato in diretta quindi il primo giro beh diciamo è un primo giro consono potevano andare più forte comunque è lì per risultati intorno a 2.02 2.01 era difficile confermarsi nel secondo giro andando forte come nel primo Angelica Sarna per il suo livello potrà avvicinarsi a questa prestazione stiamo a vedere quello che faranno le altre ora a sto punto se ha qualche informazione in più ecco grazie lupo ora non so se sei direttamente là eh perfetto è su Atletica Italiana ma non c'era prima su Atletica Italiana ora avevo controllato maledizione andiamoci a vedere questi 800 metri ci sono più spettatori sul mio canale che su Atletica Italiana bene la volata finale no questo è il passaggio del primo giro molto probabilmente mi dispiace fare freebooting di Atletica Italiana però però data l'evenienza ci guardiamo quello che è successo allora è stato un arrivo veramente al photo finish con un grande risultato e con fortunatamente la contraddizione di quello che avevo pensato perché vedo un sacco di atleti un sacco di atlete che hanno realizzato grandissimi tempi guardate chi è in seconda posizione dopo così tanti anni certo la vittoria è andata come si pensava a una delle più forti ora Liakova per l'Ucraina non è la polacca Sarna però che appunto diciamo ha fatto con lei la volata ma quelle che erano subito dietro erano le nostre e quindi adesso dovremmo avere risultati ufficiali ecco Liakova ha vinto su Rovat Sarna e no un po' più indietro di quanto pensassi ancora avevamo le straniere Mekonen in quarta posizione quinta del buono la prima delle azzurre 2-0-2-0-3 finalmente questo sì è un buon risultato e allora ha trascinato il ritmo di gara che è stato ottimo per tempi poco sopra i due minuti ha trascinato a molti primati dovrebbero essere sì primato per Joyce Mattagliano sì primato per Joyce Mattagliano ed è come se fosse un primato per Federico Del Buono perché erano tantissimi anni che non si avvicinava alla barriera dei due minuti fa 2-0-2-0-3 quindi sì previsione mia completamente fallita buoni risultati anche dai 800 metri femminili vinti col tempo finale di 2-0-1-58 da Liecova che è comunque il record del meeting con una bella volata su Orvat e poi Angelica Sarna quindi anche se è un po' male abbiamo seguito pure quest'ultima competizione e vi ringrazio per essere stati con me fino all'ultimo eh già Luca Daffara vabbè va bene così va bene così io avevo controllato se ci fosse almeno la diretta su Rai su Tattica Italiana pensavo e non c'era e non c'era prima che iniziassero le trasmissioni sulla Rai quindi pensavo che non l'avessero messa nemmeno nemmeno nella eh al termine della diretta e invece e invece c'è adesso non ho concluso tutto ma se forse questo ci permetterà di vedere quantomeno i 400 metri maschili questo mi interessa voglio vedere come ha vinto Benati e poi vi lascio ragazzi andate in pace ah allora eccoci qua siamo sul rettilino finale abbiamo Benati che era messo molto bene ma Lopez resiste resiste Benati qua attacca ed era davanti ragazzi era davanti era davanti Benati e Lopez si trascina dietro pure un'altra atleta va a soffiare la prima vanno a soffiare la prima e seconda posizione al più giovane azzurro che ancora deve aspettare prima di superare di superare e scendere sotto la soia dei 46 secondi bene io sono sfinito sono state delle tre ore bellissime grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato dopo così tanto tempo e speriamo speriamo che sia in grado di commentarvi quanti più eventi possibili quest'estate la Diamond League la Diamond League che adesso sarà trasmessa in chiaro pure sui canali Rai con la contocronaca ciao atleti io sono i mezzofondiere ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti